Ci sentite? Proviamo a cominciare. Grazie, è stupendo vedervi tanti, una vera assemblea aperta, siamo felici che siate qua, io sono Sandra Bonsanti e mi occupo di libertà e giustizia. Porto i saluti di Don Ciotti che la domenica dice la messa e ha qualche amico da sposare e da Zagrebelsky che è a parlare di costituzione a Venezia e qui abbiamo quello che rimane dei cinque firmatari del messaggio molto, credo molto bello, la via maestra, direte la via maestra perché? La via maestra nasce da Dostoievski, ci crederete o no? Ma nei demoni c'è una storia meravigliosa con una frase semplice, nella via maestra c'è un'idea, ecco, questo è stato, è all'origine di questo titolo che spero ci porterà anche avanti nei prossimi tempi tutti insieme per una grandissima, immensa battaglia civile, culturale e politica. Io do subito, mi hanno chiesto di dare una mano a guidare l'assemblea, spero che non mi odierete alla fine, cercherò di far rispettare i tempi, stiamo raccogliendo le richieste di interventi, ci sono due cose che mi preme dirvi da subito, chi intende aderire non soltanto alla giornata di oggi ma anche alla manifestazione che faremo il 12, lo dirà Stefano, si avvicina lì dove c'è Simona Peverelli dell'ufficio di Libertà e Giustizia di Milano che raccoglie tutte le adesioni, poi c'è da pagare questa sala quindi laggiù in fondo c'è una scatola per raccogliere quello che potete dare, ciascuno quello che può, per pagarci la sala di oggi che per ora è stata pagata dalla FIOM. Io darei subito la parola a Stefano Rototà, stiamo in attesa che tu apra. Allora io, no no, non perdiamo tempo, noi siamo ovviamente molto contenti di questa presenza molto ricca, vorrei dire subito che questo è l'inizio di un lavoro, sappiamo benissimo tutti che questa iniziativa è caricata di molte, forse troppe attese e anche di qualche impazienza, anzi di molte impazienze e si vorrebbe forse, io l'ho registrato anche dai moltissimi messaggi che ho avuto, qualcuno anche un po' aggressivo, che questa giornata che deve essere un inizio fosse già una conclusione. Questo sarebbe un modo sbagliato di avviare questo lavoro. In questi anni abbiamo avuto troppe occasioni nelle quali la fretta è stata davvero, come nel proverbio, cattiva consigliera, perché ha prodotto approssimazioni e devo dire anche che all'origine di molti dei fallimenti, io non sono abituato a diplomatizzare e non diplomatizzo mai, qualcuno dice che faccio male anche a me stesso, ma tutto sommato credo che parlare chiaro sia quello che ci serve particolarmente in questo momento. E cioè ci sono le approssimazioni, la non consapevolezza piena di quanto la cultura politica si fosse impoverita e all'origine di molti fallimenti che hanno costellato altre iniziative di gruppi di sinistra in questi anni. Per cui lo dico senza mezzi termini, guai se questa iniziativa che oggi stiamo cercando di avviare fosse percepita come una zattera per naufraghi o anche come un onorato rifugio, un onorato rifugio dei reduci di battaglie perdute. Lo dico con grande sincerità. Ecco, io ne ho perdute anch'io tante di battaglie quindi si potrebbe dire mettiti da parte e invece abbiamo deciso di metterci un po' tante facce. In realtà detto questo, non per spirito polemico ma realisticamente, noi abbiamo voluto rovesciare integralmente una impostazione lamentosa e sfiduciata perché in questa società e in questi anni ci sono state molte iniziative, molti movimenti che sono stati vincenti e che hanno però avuto scarsa attenzione non solo da parte della politica ufficiale ma anche da un'opinione pubblica che non è stata in grado di andare oltre l'occasione specifica o la frammentazione che queste diverse iniziative in qualche modo manifestavano. Dunque oggi è vero che ci sono state molte iniziative vincenti, che hanno interpretato la società, che hanno trovato nel riferimento alla Costituzione già un punto comune per cui questa iniziativa ha proprio l'obiettivo di cominciare a mettere insieme l'attività di tutti questi dati di realtà effettiva e credo che già i nomi dei promotori facciano dei riferimenti abbastanza evidenti a un'attività che è già stata svolta e che naturalmente non si vuole chiudere attraverso i nomi dei promotori questo mondo che vuole lavorare insieme. E' già stato detto ci saranno delle adessioni che noi auguriamo siano tante di movimenti, associazioni, di singoli. Già la manifestazione del 2 giugno che facemmo a Bologna era stata in realtà promossa da più di un centinaio di associazioni. Quindi noi siamo esattamente nel solco di questo tipo di iniziative. Questo rovesciamento di impostazione che vuole uscire non è che sarà poi tenero nell'analisi dei dati di realtà ma vuole uscire da un'impostazione per un verso minoritario e dall'altra pessimistica perché ripeto ci sono forze politiche sociali che sono vivacissime e hanno continuato e continuano a lavorare anche con successi significativi debbono però fare i conti con una sorta non di esaurimento di alcune iniziative ma del fatto che negli ultimi anni più cresceva questo tipo di presenza più cresceva anche la sordità della politica ufficiale. Faccio un esempio molto diretto così ci intendiamo. Il fatto ha raccolto quasi 500.000 firme che riguardano ciò che comincerà ad avvenire domani in Parlamento cioè la discussione di questo disegno di legge sulla modifica della procedura di revisione della Costituzione. Acqua sul marmo, silenzio, c'è un mondo politico che va a questa discussione fondamentale con lo spirito di adempiere un obbligo burocratico o di dover tener fermo una sorta di cronoprogramma che i fatti, cronoprogramma di governo, che i fatti dimostrano per un verso non realistico e per l'altra non più legittimato per l'oggetto della materia. In questo momento che forse che hanno manifestazioni pubbliche francamente eversive pretenda di votare sulla modifica della Costituzione è uno dei paradossi che noi non possiamo assolutamente lasciar passare. E devo dire che questo silenzio di sattenzione può spiegare, io lo dico con grande sincerità, il fatto che 12 deputati siano saliti sull'edificio di Montecitorio per farsi ascoltare come hanno fatto gli operai in tante situazioni. Io capisco che questo possa provocare imbarazzi istituzionali che però francamente non drammatizzerei, ma trovo sconveniente e anche un po' indecente una serie di dichiarazioni virtuose fatte da politici di altri schieramenti che hanno ritenuto di dover dire la loro sull'inaccettabilità di tutto questo. Guardino il mondo nel quale sono immersi ogni giorno, lì sono veramente i grandi e inaccettabili atteggiamenti. Devo dire però con altrettanta sincerità che forse quest'essere dovuti salire per essere ascoltati sul tetto di Montecitorio dovrebbe indurre anche una riflessione. La rete non è tutto, la rete non è così onnipotente come c'era stato raccontato, ma questo lo sanno tutti coloro i quali studiano in maniera non compiacente il mondo della comunicazione. E non è soltanto la cattiveria di chi omette l'informazione, ma questo lo sappiamo. Oppure uno si fa prendere dallo spirito di te coppa, sapete la maschera milanese che diceva all'avversario tu ti muovi e io non ti posso colpire. Ma l'avversario si muove e quindi bisogna trovare i mezzi adeguati e forse dobbiamo essere tutti meno autoreferenziali. E dunque noi dobbiamo richiamare l'attenzione su questo fatto, su un fatto che è molto significativo e molto grave e che ci porta all'attualità immediata. Perché mentre sui mezzi di informazione noi troviamo spazio all'ultimo sospiro di un giurista o presunto tale che cerca di dare una boccata d'ossigeno a un malato che non dovrebbe ricevere questo tipo di cure, l'attenzione per chi invece si batte per la democrazia perché oggi siamo a un passaggio drammatico per la democrazia italiana suscita disattenzione o disinteresse. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa il 6 di agosto, avevamo detto che c'era un vuoto di politica. Io credo che in questo mese che è appena passato questo vuoto di politica non solo è rimasto ma siamo di fronte a una sorta di evanescenza della politica. La politica è scomparsa, la politica è appesa a che cosa? Ma non ha i tempi più della politica perché è appesa a una dichiarazione che da un momento all'altro può far cadere il governo. Ma quando mi si dice che c'è una cassetta già registrata che verrà tirata fuori al momento opportuno è come se fosse stata messa una bomba sotto il governo da parte di chi è parte di questa maggioranza. Dunque non c'è la politica in questo momento, c'è un'altra cosa ed è sostituita dall'affanno, dagli atteggiamenti e dalle dichiarazioni e dai comportamenti eversivi e che ha anche come dire sbriciolato a mio giudizio la motivazione dell'emergenza economica perché l'emergenza economica è stata sopraffatta, pensate soltanto alla vicenda dell'Imu e al modo in cui sono state reperite le risorse senza un'attenzione effettiva su quello che è la distribuzione in questo momento delle risorse in regione degli effettivi problemi che abbiamo di fronte ed è stata sopraffatta definitivamente dall'interesse personale. Questo è il dato che noi dobbiamo considerare e insieme alla politica, lo devo dire con grande dolore, è scomparsa non tanto la legalità, ma il senso stesso del diritto. Se io potessi oggi fare una mossa, lo dico retoricamente, e potessi dimettermi da giurista, francamente lo farei perché ho letto dichiarazioni e documenti presentati anche alle Camere che mancano della minima deontologia professionale. Questo è un punto significativo, ma non perché il giurista sia portatore di una verità, però non è nemmeno ammissibile che i giuristi che hanno una qualche stima in giro dicano ma poi i giuristi possono sostenere tutto e il contrario di tutto. Questo è chi ha una moralità molto bassa, chi aspira a fare il consigliere del principe che è un modo vecchio di intendere la funzione del giurista. Ma non è questo il lavoro che va fatto, perché il lavoro che va fatto richiede anzitutto attenzione per le fonti. Non si può citare un solo articolo della Costituzione ignorando che nella materia di cui stiamo parlando, cioè quella che davanti da domani alla giunta del Senato ci sia un solo riferimento, perché i riferimenti costituzionali sono almeno 4 o 5, vanno costruiti in sistema, come dicono i giuristi e vanno irresistibilmente qui davvero, non dico in una sola direzione, ma in una direzione segnata molto bene, a cominciare dal fatto che è la legge che stabilisce le cause di ineleggibilità, di incandidabilità delle persone. E poi i precedenti della Corte Costituzionale, quelle che sono state le prassi in questi anni. Guardate, sto dicendo esattamente quello che è scritto nella dichiarazione del 13 di agosto del Presidente della Repubblica che quando ha parlato di grazia ha detto che lui si sarebbe attenuto alle leggi, ai precedenti costituzionali, alle prassi e alle regole. Ecco, questo è il mestiere che dovrebbe fare il giurista. Ignorare qualcosa, cancellarlo, addirittura a capovolgere il significato di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo non fa parte del bagaglio di persona che voglia essere in qualche modo riconosciuta professionalmente. Ma questo sta trascinando in questo momento insieme alla politica nullificata il diritto considerato uno strumento subordinato alla discrezionalità di chi in quel momento esercita un qualche potere. Siamo tornati a una fase precedente alla nascita dello Stato di diritto. E di fronte a tutto questo che si traduce in dichiarazioni e comportamenti davvero eversivi penso che davvero a tutte le alte cariche dello Stato spetti il dovere di dire una parola più forte in questo momento, in questa direzione. E allora è chiaro che se questa è la diagnosi, voi scuserete la sommarietà, ma io devo pure non essere aggressivo nei vostri confronti perché ci sono molte persone che intendono parlare, ripartire dalla Costituzione è quasi un dato di realtà. Io so che la Costituzione è stata messa in questi anni non a caso in un angolo, non è un caso che oggi si vogliano imputare alla Costituzione responsabilità che sono di un ceto politico che non ha avuto la capacità di guardare all'interno di se stesso e al tempo stesso sono anche sorpreso in qualche momento del fatto che dalle nostre parti, cioè dalle parti della sinistra, ci sia un disincanto che dice ma se la Costituzione non ha impedito tutto quello che è accaduto in questo periodo è allora la Costituzione da buttare via. Io non voglio entrare in questa che è una discussione anche sgradevole perché bisogna essere un po' più misurati quando si affrontano alcuni argomenti ma io vorrei dire che se ci sono stati due fatti straordinari, cioè il salvataggio dei referendum sull'acqua e la restituzione dei diritti sindacali ai lavoratori è perché la Costituzione è stata al centro dell'attenzione e ha consentito alla Corte Costituzionale di intervenire in queste due direzioni con un risultato straordinariamente importante. E allora in questi anni la Costituzione è stata rilegittimata dai cittadini, davvero è stato un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica perché la Costituzione è stato sì più il patto costituzionale politico che ha tenuto insieme alla Repubblica in anni difficili ma la Costituzione è stata in quasi tutti i momenti qualcosa che disturbava nei tempi dell'inattuazione costituzionale una trappola fu definita all'inizio e poi un ferrovecchio e poi qualcosa da eliminare a cominciare dall'articolo 1, l'articolo 1 alla Repubblica democratica fondata sul lavoro, se oggi c'è stato un articolo della Costituzione rilegittimato dalla forza delle cose è esattamente l'articolo 1 per il fatto che il lavoro rappresenta oggi il grande capitale tema non solo in Italia. Diremo tra un momento che noi abbiamo un obiettivo che è anche quello di esportare questa volontà di costituzionalizzare nella nostra discussione europea ma questo è avvenuto e allora c'è l'articolo 1 che oggi ci dice ecco perché non è retorica dire che nel momento in cui la disoccupazione strutturale i diritti dei lavoratori sono negati, in diversi paesi il numero dei precari sta superando il numero degli occupati stabili c'è una modifica strutturale che non è giudicabile attraverso la pura logica dell'economia ma è giudicata e giudicabile, lo vediamo dalla discussione che c'è in altri paesi attraverso la logica della democrazia esattamente quella che nell'articolo 1 ci dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro quando questo fondamento viene messo in discussione viene messa in discussione la tenuta democratica del paese questo è il dato che noi abbiamo di fronte e al quale vogliamo reagire così dispiace che non ci sia oggi Marco Revelli che pure ci ha mandato una lettera perché Marco Revelli è persona che si è spesa con grande eloquenza in questi anni su due terreni l'accentuata attenzione per il crescere delle diseguaglianze divenute dato strutturale delle nostre società non è più un'acquisizione soltanto legata alle riflessioni degli studiosi o alla terribile vita che ciascuno vive nella diseguaglianza i giornali che hanno una loro diffusione hanno mostrato con l'eloquenza dei dati che ormai l'Italia dopo gli Stati Uniti e l'Inghilterra è il paese in cui le diseguaglianze sono cresciute di più questo è un dato di realtà e questo che cosa vuol dire? che questo riporta al centro dell'attenzione e all'eguaglianza e all'articolo 3 della Costituzione che ha un passaggio essenziale cioè quello del dovere delle istituzioni pubbliche non di essere indifferenti non di delegare al funzionamento del mercato quasi nuova legge naturale il corso delle cose ma c'è il dovere istituzionale di intervenire per rimuovere gli ostacoli di fatto all'eguaglianza e oggi il maggior ostacolo di fatto è esattamente la mancanza di lavoro che significa mancanza di dignità che significa mancanza di rispetto per la vita delle persone questi sono i dati potremmo continuare con una lunga lista di norme costituzionali ma noi abbiamo voluto scrivere qui che questa nostra attenzione per la Costituzione adesso leggerò velocemente due o tre passaggi di questo documento la via maestra la difesa della Costituzione è anzitutto promozione di un'idea di società divergente da quella di coloro che hanno operato finora tacitamente per svuotarla e ora operano per manometterla fortemente questa è la linea che noi vogliamo indicare ma è una linea che è venuta dalla forza delle cose non è una forzatura che invece viene da un gruppo di firmatari di qualcosa è un dato di realtà voi non sareste qui se non ci fosse questa consapevolezza e allora devo dire che qui noi ci troviamo di fronte alla necessità di riprendere tutto questo e abbiamo usato nella conferenza stampa del 6 di agosto la necessità di reagire a questo fatto del vuoto di politica che oggi è destituzione di senso che sta trascinando con sé tutto quello che è componente del sistema democratico la dissoluzione del diritto accompagna la dissoluzione della politica e abbandona la politica alle logiche puramente economiche e agli interessi personali lo ripeto creare uno spazio pubblico non più affidato al gioco di potere sempre più insensato e svuotato di senso costituzionale ma a questo spazio pubblico che non è più spazio pubblico perché occupato da logiche oligarchiche dalla disattenzione e dal silenzio per la società si è venuta affiancando uno spazio pubblico informale più largo occupato da forze spontanee questo è quello che è accaduto e questo è il riferimento che noi vogliamo in questo momento consentire che venga preso in considerazione come base di un lavoro comune questo è il punto al quale noi facciamo riferimento e concludo dicendo che tutto questo è impensabile come lavoro se non abbiamo nello stesso tempo la prospettiva dell'Europa perché l'Europa è il luogo dei dictat delle lettere, dell'imposizione poi tardivamente riconosciute come inopportune parola molto tenue rispetto ai drammatici effetti che tutto questo ha prodotto sento ripetere in questi giorni la necessità di avere più Europa politica bella parola ma più Europa politica per fare che cosa? per imporre con durezza ancora maggiore le politiche che in questi anni hanno trovato resistenza oppure per avere l'Europa come luogo e spazio anch'esso pubblico dove le voci possono essere ascoltate un'Europa che non sia amputata della sua dimensione costituzionale perché oggi questo sta avvenendo io so che in questa sala ci sono molti che non amano la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ma sarebbe un errore politico in questo momento trascurare il fatto che questa carta dei diritti ha lo stesso valore giuridico dei trattati e in molte situazioni grazie all'intelligenza o di movimenti o di giudici è stato possibile porre riparo ad alcune delle, non tutte certamente distorsioni che si producevano in Europa ma in questo momento c'è un'Europa senza carta dei diritti fondamentali è come se noi dicessimo in Italia operiamo e questo sta avvenendo di fatto ignorando che l'Italia ha una costituzione nella prima parte legata ai valori ai principi e ai diritti questo sta accadendo in Europa quindi noi abbiamo bisogno di una battaglia per ricostituzionalizzare o costituzionalizzare l'Europa non abbiamo bisogno per seguire questa via maestra soltanto di mosse un po' estreme e un po' anche ingenue usciamo dall'euro facciamo un referendum contro l'euro abbiamo bisogno di ridiscutere seriamente mosse come quella che hanno portato alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione al fiscal compact abbiamo il dovere di chiedere che verga eliminata in Italia per esempio la privatizzazione del diritto del lavoro con quell'articolo 8 che ha consentito la negoziazione tra soggetti con poteri diversi prescindendo addirittura dalla legge ma noi abbiamo delle strade per esempio indicate con molta nettezza e molta durezza da pensatori che hanno opinioni e punti di partenza diversi da Jurgen Habermas a Jean-Paul Fitoussi il fallimento di questa Europa economica è analizzato con la giusta durezza ma indicando anche quelle che possono essere le vie d'uscita come in Italia la disattenzione la liquidazione di due grandi temi che ci sono nell'agenda indicata da voi e dai movimenti che sono quella dei beni comuni e quella del reddito di cittadinanza vengono messi da parte e in questo momento trascurare la questione dei beni comuni significa non soltanto consentire piccole e grandi rivincite locali che in violazione dei risultati del referendum vogliono riproporre il servizio idrico come fonte di profitto ma significa per esempio le delibere che vengono prese a proposito della conoscenza in rete e dell'accesso a internet che sono delle vere e proprie manovre che ignorano il fatto che la conoscenza in rete deve essere in primo luogo considerata un bene comune in secondo luogo la questione a cui facevo riferimento e io ho visto il discorso sul cambiamento strutturale del lavoro all'interno delle nostre società impone che si faccia una discussione seria e pubblica sul reddito un reddito garantito e badate coloro i quali se ne liberano con una mossa e un'alzata di spalle dicendo non ci sono le risorse io non cito degli economisti estremi ma Tito Boeri in un articolo partendo dai livelli delle pensioni indicava alcune mosse che consentirebbero di recuperare le risorse oggi utili per alcuni interventi mirati in una situazione strutturale che richiederebbero un reddito garantito almeno per fasce dunque tutto questo c'è nella discussione che stiamo facendo e che ci mette in diretto rapporto con la necessità di uscire anche dalla gabbia europea ma in che modo anche lì con un'idea di Europa politica diversa e l'Europa politica diversa è anche l'Europa che in questo momento non è stata capace di uscire dai propri interessi nel momento in cui un altro vuoto di politica quello che riguardava la pace nel mondo non soltanto la Siria si è imposto come grande tema e la forza dell'intervento del pontefice deriva proprio da questo che c'è un vuoto di politica che riguarda l'Italia ma riguarda anche il mondo e la questione della pace è rivelatrice di tutto questo troppe cose non lo so ma noi non possiamo fare sconti in questo momento né per quanto riguarda il rigore dell'analisi né per quanto riguarda la ricostruzione di un'agenda politica e dunque di una politica costituzionale ecco questo è l'inizio del nostro lavoro comunque noi abbiamo annunciato che ci sarà un secondo momento che però non sarà accompagnato da un vuoto noi avevamo annunciato e confermiamo una grande manifestazione pubblica avevamo prima ritenuto che fosse possibile farla il 5 di ottobre ma abbiamo bisogno di un po' più di tempo non per ragioni organizzative tecniche ma perché vogliamo che questo mese sia un mese di discussione seria anche in una serie di città dove quello che ci stiamo dicendo stamattina possa essere approfondito è riportato quindi noi vi diciamo questa non vi possiamo dire soltanto la piazza romana nella quale questo avverrà ma il 12 di ottobre quindi non c'è un grande scarto il 12 di ottobre questa grande manifestazione pubblica ci sarà grazie grazie Stefano grazie di tutto è molto emozionante cominciare questo viaggio insieme io sono fiduciosa che ce la faremo a rimanere insieme fino allo sbocco finale che non è tanto vicino e quindi nel passato non sempre è stato possibile ma io qui vedo tante persone con cui abbiamo lavorato per il referendum del 2006 con Oscar Luigi Scalfaro e sono certa che ce la faremo e soprattutto saremo pronti tutti a cominciare da noi che siamo qui a fare dei passi indietro quando sarà il momento giusto per tutti quindi coraggio un 8 settembre che guarda a una vittoria finale sarà difficile l'altra volta si combatteva contro una legge che era stata fatta da un governo nemico tra virgolette questa volta purtroppo siamo in una situazione molto più complicata però non è tutto tutto perduto abbiamo bisogno che ci sia tante persone che hanno lavorato con noi anche allora dal mondo cattolico sarà con noi spero anche questa volta anche altre sigle sindacali se sarà possibile questo è il lavoro di Maurizio e ai partiti che vorranno a quelle forze politiche a quei singoli politici che ci vorranno stare tutti insieme dico ai giornalisti una cosa siccome me ne intendo vi pregherei di non far passare dichiarazioni di chiunque per dichiarazioni del gruppo dei cinque promotori questo è essenziale perché nessuno pensi di poter adoprare questa situazione per qualche cosa non voglio essere cattiva però siccome è successo nel passato allora quelli che possono parlare a nome dei cinque e quindi della via maestra sono i cinque firmatari del manifesto adesso do la parola do la parola a Lorenza Carlassare che è una grandissima donna una grandissima donna della destituzione ma io sono molto contenta che tante persone abbiano abbiano accolto questa questa sollecitazione e credo che quello almeno quello che ci ha animati io in particolare sono stata animata da questo è dall'idea di non far morire le speranze cioè non è possibile pensare che il nostro paese sia caduto nella illegalità che sia caduto dal punto di vista della perdita dei valori totali la costituzione a cui io tengo molto come costituzionalista mette l'uomo la persona umana al centro del sistema e quindi il lavoro immediatamente dopo perché il lavoro dà dignità alla persona allora tutto questo è perduto la dignità umana sembra perduta tutto sembra acquistabile il denaro sembra il valore prevalente io vorrei che si facesse sentire la presenza di un'altra Italia di un'altra Italia che non è quella che vediamo rappresentata in queste piccole commedie dei politici e di chi gli dà spazio in queste miserie indecenti vorrei che tornasse anche l'idea che il lavoro onesto la vita spesa anche per gli altri con altruismo e con volontà e senza interesse e profitto è importante e la democrazia è il primo luogo vicino alla democrazia vorrei che però si valutasse il costituzionalismo non mi stancherò mai di ripetere costituzionalismo vuol dire limiti e regole al potere il potere non vuole limiti non vuole regole ma noi dobbiamo imporgliele fargliele rispettare perché altrimenti una democrazia dove non sono rispettati i limiti e le regole cade cade noi assistiamo oggi io l'ho detto a un disastro morale quello che vorrei è che uscissimo da questo disastro morale in primo luogo mi sono messa il coppia perché non voglio parlare molto perché ho visto che ci sono tanti interventi e mi piace che le persone si possano esprimere vorrei che tornasse in primo piano la coscienza di ciascuno che tornasse in primo piano l'articolo 54 della costituzione dimenticato articolo dimenticato che dice che coloro cui sono affidate pubbliche funzioni affidate vuol dire te le affido ti do fiducia devono esercitarle con discipline seguendo e onore io vorrei che l'onore tornasse fuori perché oggi siamo tutti disonorati e vorrei veramente che tornassimo a alzare la testa allora io credo molto nella cultura costituzionale mi ha commosso vedere qui una persona che mi ha detto io da vari anni sto facendo a Padova dei corsi di cultura costituzionale ad alto livello Stefano Rodotale ha aperto l'anno scorso Gianni Ferrara è venuto tantissimi Gustavo Zagrebeschi tantissimi colleghi sono venuti con piacere questa persona mi ha detto che viene apposta da Roma per sentire queste cose e poi torna a Roma allora io da anni tento di divulgare una cultura costituzionale perché questa è la base anche nelle scuole l'istruzione è il primo momento in cui si forma un cittadino tutto questo è abbandonato perché è perché è molto più comodo guidare un greggio ignorante che avere di fronte dei cittadini allora adesso mi sono stupata basta vorrei in sostanza animare un risveglio delle coscienze e non e non è come dire sostenere piccole ambizioni perché di noi di persone che hanno ambizioni non ce n'è nessuna va bene sì 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 lorenza ha già finito e dà l'esempio a tutti quanti cinque minuti io ho qui un aggeggio infernale che se funziona si chiama cronometro sarà veramente spietato allora cominciamo con gli interventi Corrado Oddi e l'ambino dov'è Corrado Oddi non c'è Corrado sì sì è l'aria eccolo e si prepara Guido Viale c'è una cosa mi sono dimenticata me l'ero anche segnata se io vorrei provare a dare un contributo che è quello che mi proviene dall'esperienza che ho frequentato in questi anni il movimento dell'acqua quello che ha costruito la vittoria referendaria del giugno 2011 la mia esperienza di sindacalista della funzione pubblica Cigelle e peraltro provo a proporre alcune riflessioni che non sono le riflessioni del movimento dell'acqua della funzione pubblica Cigelle anche perché non c'è stato modo che però penso appunto provengono anche da queste mie esperienze e la prima riflessione che voglio fare è la seguente vorrei provare proprio perché sono molto d'accordo con le cose che diceva Stefano Rodotà che oggi è un inizio vorrei provare a circoscrivere almeno quello che per me dovrebbe essere questo nuovo inizio provo prima a dirgli il negativo penso che non siamo qua per fare una bella discussione di approfondimento seminariale non siamo qua neanche anche se il tema c'è io sono sensibile ma io non penso che siamo qua per ragionare di un nuovo soggetto politico anche se il tema c'è per quanto mi riguarda io penso che noi dovremmo essere qua per provare a vedere se riusciamo a costruire un grande movimento per l'attuazione della Costituzione e l'espansione della democrazia in questo paese a me sembra questo il tema fondamentale e cioè il tema che qua ci sono soggetti molto diversi e che per oggi possono trovare questo punto di unificazione l'attuazione dei principi costituzionali e l'espansione della democrazia e guardate li metto insieme non a caso perché in questi anni appunto come veniva ricordato di cose ne sono successe tante è successo per esempio che dopo le elezioni del 24 25 febbraio leggo così anche le larghe intese non si è prodotto solo un governo di larghe intese si è prodotto un'idea che di fronte alla complicità della società bisogna ridurre la democrazia così io leggo l'idea del presidenzialismo e però contemporaneamente in queste società in questi anni ci sono stati tanti soggetti che appunto si sono impegnati che si sono collocati sul terreno della costruzione dell'espansione della democrazia e per questo se io ragiono su quelle che dovrebbero essere io penso le caratteristiche di questo punto di novità penso che noi dovremmo avere un'idea che non è semplicemente difensiva noi non siamo semplicemente qua per dire che appunto che difendiamo i principi costituzionali noi siamo in qualche modo e ragioniamo sul fatto che incarniamo un'idea di democrazia più forte e allora la voglio dire anche a modo di slogan penso che dovremmo dirci che questo movimento appunto difende i principi costituzionali ma perché oggi e su questo dovremmo ragionare anche quando chiameremo le persone in mobilitazione questo movimento dice che appunto in attuazione dei principi costituzionali noi siamo contro la guerra siamo per la libertà e la rappresentanza sindacale siamo per la difesa dei beni comuni questi tre punti la pace il lavoro e i beni comuni sono oggi il punto di attuazione costituzionale e ovviamente non spetta io penso noi perché come dire sulla pace ci sono i movimenti pacifisti per quanto riguarda il lavoro della rappresentanza sindacale la FIOM la CGL per quanto riguarda i beni comuni ci sono i movimenti per là come i movimenti per i beni comuni non sta a noi di elaborare nuove proposte su questo però io penso che noi dovremmo dire che appunto siamo contro l'intervento armato in Siria penso che dovremmo dire che ci vuole una nuova legge sulla libertà e la rappresentanza sindacale penso che dobbiamo dire che ci vuole anche una soluzione normativa per attuare i referendum che sono stati contraddetti quelli che abbiamo vinto nel giugno 2011 penso che noi questo dobbiamo dire con precisione e per esempio penultima cosa che dico per star nei tempi una brevissima riflessione sull'esperienza del movimento per l'acqua appunto in questi due anni in tutti i modi si è provato a contraddire quel risultato referendario il movimento dell'acqua è andato avanti io qua adesso posso dire che martedì prossimo una delegazione della funzione pubblica Cigelia del forum dei movimenti per l'acqua depositerà al ministero dell'interno 67.000 firme raccolte qua in Italia per l'iniziativa dei cittadini europei che si assommano e vanno a fare 1.800.000 firme raccolte in Europa per la prima iniziativa dei cittadini europei alla fine Stefano Rodotacci parlava di un'altra idea di Europa l'altra idea di Europa non è solo ragionare cosa succederà sulla prossima scadenza elettorale appunto nella prossima primavera un'altra idea di Europa è anche il fatto che c'è un primo strumento di esposizione da un anno iniziativa dei cittadini europei la prima che si fa riguarda l'acqua e i beni comuni e abbiamo raccolto 1.800.000 firme in Europa questa è l'altra idea di Europa e sta dentro anche a questo percorso e dicevo appunto il movimento dell'acqua ha continuato a lavorare e sta dicendo oggi dentro un autunno in cui c'è dopo due anni di una vicenda aperta chi tenterà di regolare definitivamente i conti noi siamo in presenza di una vicenda scandalosa che il nuovo metodo sulle tariffe è fatta dall'autorità dell'energia elettrica e il gas il TAR della Lombardia dovrebbe pronunciarsi in autunno vediamo che il governo poi vedremo se ci sarà ancora oppure no però annuncia che nella nuova legge di stabilità dovrebbe partire un grande piano di privatizzazioni e io mi chiedo e chiedo tutti voi se dentro questa nostra iniziativa appunto non debba starci il fatto che oggi ragionare sulla difesa dei principi costituzionali e sull'espansione della democrazia non ci stia a pieno titolo anche questa questione non ci stia a pieno titolo al fatto che appunto in qualche modo noi dobbiamo ragionare sul fatto che guardiamo avanti e che per noi appunto in veramente la democrazia significa esattamente la battaglia per la pace per il lavoro per i beni comuni infine l'ultimo ragionamento la manifestazione nazionale io penso che sia utile adesso vediamo io accolgo l'appello a superare le fermentarietà di ciascuno perché ad esempio sento la data del 12 ottobre il 12 ottobre è una data su cui movimento dell'acqua stava esattamente ragionando sta ragionando per produrre una serie di iniziative in tutti i territori a difesa del referendum e contro l'attacco che si sta producendo vediamo come fare adesso non sarà semplicemente un problema di date in qualche modo insomma la costruiremo penso però soprattutto che il tema sia esattamente il nostro profilo e cioè l'idea di costruire un grande movimento fatto di tanti soggetti che da un'idea di speranza e che oggi si chiama espansione della democrazia e mette insieme pace lavoro e beni comuni guido guido viale cinque minuti e si prepara Paolo Paolo Flores buongiorno siamo stati abituati soprattutto quelli che hanno una certa età come me a considerare la costituzione un balluardo contro le avventure autoritarie che peraltro anche nei decenni passati non ci sono state negate però allora la politica si faceva a valle della costituzione cioè nell'interpretazione e nella realizzazione che ciascuno delle forze politiche riteneva Guido scusami devo dare un'informazione è stata aperta un'altra sala siamo veramente tantissimi c'è un video c'è un modo di essere collegati comunque c'è un video grazie scusami se ti ho interrotto no oggi viene messa in discussione la costituzione e la politica si è spostata su un altro fronte a monte della costituzione nella difesa di quei diritti di cui la costituzione dovrebbe essere un presidio è un cambiamento non da poco che ci rende la politica molto più radicale di quello che era negli anni passati e lo vediamo tutti i giorni nel tentativo pratico tentativo della pratica di mettere in discussione i diritti fondamentali delle fabbriche diritti fondamentali nelle lotte che si svolgono in piazza o sul territorio dove la repressione va sempre in una sola direzione mentre le responsabilità della violenza risale prevalentemente allo Stato Valle di Susa Genova e non altro e soprattutto nel tentativo in nome della ripresa della crescita della costituzionalizzazione della parità di bilancio di mettere in discussione cose fondamentali come diritti non soltanto l'occupazione il reddito la dignità delle persone ma di legittimare la messa in discussione di questi perché sono incompatibili con le esigenze dell'economia ora nel promuovere questa mobilitazione e le prossime in difesa della costituzione credo che la prima cosa da fare sia separare nettamente quelli che sono favorevoli alla difesa di questi diritti da quelli che li stanno attaccando allora identificare tutti quelli che hanno interesse alla difesa di questi diritti è molto difficile perché sono in qualche modo come il 99% della popolazione di cui parlava Occupy Wall Street anche se come ha detto ha ricordato a suo tempo Rossana Rossanda molta la gran parte di quel 99% non sa di appartenervi e ha bisogno appunto del nostro lavoro per essere mobilitati però è molto più facile e indispensabile identificare quelli che sono oggi al centro dell'attacco contro quei diritti perché sono il governo perché sono i partiti che lo sostengono perché sono coloro che sponsorizzano gli accordi che contrattano la stabilità del governo con la manomissione della costituzione e sto parlando del Presidente della Repubblica però non ci si può fermare a questa distinzione perché bisogna la domanda a cui dobbiamo rispondere è possibile la difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione se si lascia o si mette in mano alla finanza internazionale le scelte fondamentali che decidono dell'occupazione del reddito dell'assistenza e della protezione civile dei diritti della dignità della persona come continuamente ci viene ripetuto e la conferma di questo chiederci come mai stiano succedendo queste cose ce l'ha spiegato la banca G.Pay Morgan che ha detto che le Costituzioni non solo quelle italiane ma quella di molti paesi europei in particolare quelli mediterranei oggi radunati sotto l'insegna dei PIGS sono incompatibili con l'esercizio dell'economia così come è stata costituita e quindi non è possibile schierarsi dalla parte della difesa di questi diritti se non costruendo un percorso che metta in discussione il potere che la finanza oggi esercita non soltanto sull'Italia ma a livello europeo e a livello mondiale vasto programma direbbe De Gaulle ma noi dobbiamo avere fiducia nel fatto che rappresentiamo siamo una pattuglia di quel 99% che si ci deve mobilitare e quindi pensare e tenere presente che la mobilitazione nasce sempre a livello locale dall'azione sui territori dal coinvolgimento dei comuni dalla lotta contro l'asservimento che viene fatto delle politiche dei comuni all'esigenza del patto di stabilità privandoli dei beni comuni privandoli dell'esercizio dei servizi pubblici locali e io mi chiedo dato che stiamo parlando della Costituzione che sancisce l'equipollenza dei poteri dei comuni con quelli degli organismi dello Stato che cosa diventa un comune quando non ha più la disponibilità dei beni comuni dei servizi pubblici locali perché li ha dovuti vendere alla finanza per cercare di mettere in pari il proprio bilancio allora tenendo conto che la base è sempre a livello locale però questa battaglia non può essere portata avanti se non con un respiro come è già stato detto a livello europeo e quindi nella mobilizzazione a cui io come membro del gruppo Alba mi sento di garantire la mobilizzazione e la partecipazione di tutti i miei compagni vorrei dire che è assolutamente necessario che la dimensione europea della rivendicazione di quei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione acquisti questo respiro europeo altrimenti la battaglia è destinata a venire persa grazie grazie Paolo Flores Paolo è inutile che ve lo presentiamo lo conoscete e devo dire che è il più appassionato sostenitore di questo viaggio che cominciamo oggi per me ovviamente l'idea che inizi oggi un movimento che vuole superare non solo le frammentazioni ma tante autoreferenzialità di tanti movimenti che ci sono stati in questi ultimi grossomodo vent'anni va da sé è una cosa per cui Micromega si è sempre battuta è un'idea fondamentale per lo meno dai tempi del Palavobis bisogna aver chiaro però proprio per raccogliere la richiesta di Stefano di parlarsi senza diplomatismi che quando come primo inizio in un movimento che vuole nascere pone l'obiettivo fra 34 giorni di una manifestazione sulla riuscita o meno di questa manifestazione si gioca la sua esistenza fin dall'inizio perché se questa manifestazione sarà anche minimamente inferiore a quella ad esempio che nel settembre del 2002 si svolse con Nanni Moretti e Girotondi sarebbe una sconfitta bisogna che sia la più grande manifestazione auto-organizzata da parte della società civile perché perché si svolgerà in una situazione in cui potenzialmente la rabbia l'indignazione e la voglia di lottare sono molto più grandi che undici anni fa e quindi se non siamo in grado di raccogliere mobilitare catalizzare tutte queste energie nella società civile partiamo già sconfitti ora questo significa alcune cose molto precise da fare da ora da subito siamo in una situazione in cui che veramente si può definire storica perché sappiamo tutti che nelle prossime settimane si gioca il senso degli ultimi vent'anni si gioca la chiusura di questi vent'anni e l'apertura di una pagina nuova oppure si seppellisce per non sappiamo quanti anni la speranza di ogni radicale mutamento se questa manifestazione non riuscirà come deve e può riuscire lasciando un segno e dando un nuovo protagonista alla vicenda politica cioè tutti noi se non sarà questo vorrà dire che il ventennio berlusconiano proseguirà e proseguirà nella forma in cui è proseguita e ha vinto davvero per esempio il taccerismo in Inghilterra la vera la grande vittoria strutturale del taccerismo in Inghilterra è stato che dopo la Thatcher la sinistra si è chiamata Tony Blair se se fra qualche mese se dopo la nostra manifestazione l'unica alternativa possibile vincente anche elettoralmente a Berlusconi si chiamerà Renzi il Berlusconi avrà vinto strutturalmente ora o noi a partire dalla manifestazione del 12 ottobre saremo l'alternativa al berlusconismo oppure la deriva sarà già segnata e allora perché davvero il 12 ottobre significa che nasce a livello di massa un nuovo protagonista poi le forme organizzative non avranno importanza ma sarà la forza decisiva dei prossimi mesi noi dobbiamo sapere che abbiamo una responsabilità enorme e questa responsabilità enorme consiste in primo luogo nel da oggi da questo istante misurare le parole misurare le parole significa che non possiamo pronunciare più nessuna parola che non sia all'altezza della realtà di come stanno le cose se noi useremo parole inzuccherate parole diplomatiche parole che cerchino di sminuire l'oscenità di quello che sta accadendo noi non avremo misurato le parole e avremo fatto qualcosa per smobilitare invece che mobilitare le energie che abbiamo in questo paese io un paio di settimane fa sono andato a cercare su tutti i vocabolari che ormai si trovano anche online il significato dell'espressione golpe bianco e ho trovato sostanzialmente sempre questa definizione eversione dell'ordine costituzionale senza violenza ma attraverso l'azione delle istituzioni stesse allora se noi vogliamo prendere sul serio le parole e la realtà di quello che sta accadendo dobbiamo dire tranquillamente che è in corso uno strisciante golpe bianco perché scusate no perché si sta decidendo si discute di qualche cosa di cui non si dovrebbe non si potrebbe discutere se non ci fosse un golpe bianco strisciante in corso il cardine di tutti i cardini della nostra costituzione è la legge uguale per tutti ma della nostra costituzione addirittura della convivenza civile da ben prima della democrazia che invece si stia discutendo di non applicare la legge a uno perché ha alcuni milioni di voti cioè si voglia sradicare la costituzione in nome di un interesse politico questo è già golpe bianco e allora se noi vogliamo riuscire in questa manifestazione vogliamo mobilitare tutte le energie che ci sono in questo paese dobbiamo sapere che si tratta giorno per giorno già di agire come una forza civile protagonista dovremo fare una conferenza stampa settimanale dovremo ogni giorno organizzare nelle varie città delle manifestazioni e delle assemblee preparatorie dovremo coinvolgere tutte quelle personalità che per esempio hanno firmato l'appello del fatto che sta raggiungendo le 5.000 firme molte delle quali hanno un appeal mediatico in grado di aiutare la mobilitazione lo possiamo fare se fin da oggi stabiliamo chiaramente non solo la data perché la data è essenziale ma di che cosa vogliamo nutrire o come vogliamo articolare questa sacrosanta parola d'ordine che non è difesa della Costituzione è realizzazione della Costituzione a fronte di coloro che vogliono rottamarla perché oggi la situazione è manichea non c'è più una terza possibilità fra distruggere la Costituzione come l'establishment vuole fare e realizzarla e su questo carattere dicotomico della situazione che noi possiamo agire e diventare appunto una forza di riferimento per la stragrande maggioranza dei cittadini allora io credo che dobbiamo fin da qui dire chiaramente quali saranno non dico gli slogan che appariranno poi sul palco ma in sostanza il significato per noi di realizzare la Costituzione perché in questi giorni mi è capitato alle volte di leggere i titoli giornali che dicono caso Berlusconi la legge è uguale per tutti allora io apro convinto di trovare quello che per tutti noi per ogni persona normale significa la legge è uguale per tutti e invece sotto quel titolo trovo le dichiarazioni di Daniela Santanchè allora è evidente che non basta ripetere la legge è uguale per tutti la Costituzione va realizzata bisogna indicare chiaramente oggi rispetto alle cose più urgenti che cosa significa significa porre dire la parola fine al regime di vent'anni del berlusconismo degli inciuci del marchionismo e delle larghe intese di tutte queste cose non solo di una se non diciamo chiaramente che la manifestazione vuole chiudere un'epoca e aprirne un'altra e che quell'epoca è fatta di questa continuità di questa continuità di regime che noi vogliamo rovesciare noi non riusciremo a mobilitare tutte le energie dei cittadini ecco io credo che quindi da oggi stesso deve nascere l'impegno di avere una data di avere una piattaforma articolata anche di parole d'ordine di avere un comitato organizzativo perché bisogna lavorare minuto per minuto altrimenti inevitabilmente tutto il carico organizzativo finirebbe sulla FIOM e non sarebbe giusto né per la FIOM ma sarebbe un errore perché dobbiamo dare la spinta perché ci sia un'enorme mobilitazione di auto organizzazione e anche di autofinanziamento tutto questo si fa se sapremo ripeto misurare le parole essere all'altezza di una situazione drammatica che noi abbiamo contrastato e combattuto tutti troppo spesso in modo diviso e frammentato in questi 20 anni e che ora dobbiamo cominciare a combattere con il massimo delle energie e della coerenza tutti insieme Vincenzo Vita Vincenzo Vincenzo Vita scusa è colpa mia non ti avrei non c'è ti prepari si prepari Maso ma tu è notariano ah notariano grazie sì ma meno grazie dell'opportunità io innanzitutto volevo ribadire l'adesione dell'associazione articolo 21 che fu all'inizio della promozione dell'appello tra le associazioni che non solo aderirono ma cercava cerca cercherà di portare al massimo delle adesioni ormai molte migliaia l'appello voglio anche aggiungere che in queste ore sul sito di articolo 21 rimane un dibattito aperto da non chiudere sulla vicenda del tanto evocato videomessaggio di Berlusconi ora qualcuno di voi dirà ma di fronte a quello che accade momento le regole è stato detto benissimo da Rodotà dalla Carlastare da tanti di voi sono sempre regole in Italia purtroppo sul tema televisivo l'abbassamento della soglia critica e morale è stato impressionante e quindi si dà persino per possibile dibattere se c'è un obbligo o no a trasmetterlo si dà il caso che non si può ma perché non si può e non si deve non per una regola introdotta chissà da quale cattivone di estrema sinistra perché lo stesso decreto Romani che fa riferimento al testo unico della radiodiffusione attenzione questo è un passaggio delicato perché tra qualche ora potrebbe accendersi una grottesca discussione il direttore del giornale della RAI non ha detto bene finora ha detto ognuno vedrà non ha detto bene c'è un punto chiave la possibilità di fare dei video messaggi a reti più o meno unificate è esclusa da due articoli almeno non vorrei ingerirmi in territori dove qui c'è il massimo in Italia però questo è un tema di battaglia culturale anche simbolica perché il tema drammatico del conflitto di interessi io mantengo un'iscrizione a un partito che ha come le sue colpe a riguardo come noto non da solo e no no lo voglio dire perché se no sembra che io parli d'altro no 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 lo voglio dire lo voglio dire perché se no sembra che uno si metta però c'è un congresso scusate sto arrivando alla conclusione però guardate e mi piaceva dirlo sì 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 per piacere per piacere no 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 scusami un atto di serietà nei vostri riguardi non è giusto che nemmeno io l'ho fatto perché questo accenno perché siccome sono qui con Beppe Giulietti che non poteva Tommaso Furfo Roelio Matarazzo altri amici e compagni dell'articolo 21 ma sarei stato anche un po' fariseo se non avessi detto c'è un argomento che purtroppo è stato mal gestito ora però c'è un congresso ma apro e chiudo questa parentesi dove magari questa battaglia si può riprendere anche perché però no va bene va bene ma io sto per concludere quindi non fatelo concludo no ma io lo concludo senza nessun motivo di no no ma grazie ma non concludo proprio dicendo invece una cosa che immagino possa incrociarsi con questa battaglia ecco perché ho fatto questa premessa non per prendermi qualche rimbrotto perché siccome il tema posto stamattina è ribadito l'appello che avete lanciato e lo dico seriamente ci sto mettendo la faccia con voi e deve diventare uno dei punti anzi direi il punto discriminante di questa assise congressuale e piacerebbe a me che i diversi candidati dicessero una parola più chiara su questo argomento ritengo che stare dentro fino a questa scadenza possa avere una qualche utilità e trascinare magari tante persone finora un po' sorde e poco attente su questo tema della democrazia sia cruciale e gli ultimi 20 secondi questo tema oggi l'hai detto Stefano alla fine della tua bellissima relazione si coniuga immediatamente col tema della Siria della battaglia internazionale della battaglia per la pace la Costituzione è tutta quanta da difendere da rilanciare ed è questo un punto discriminante anche per riscrivere la politica in Italia grazie allora si prepara Raffaella Bonini per piacere buongiorno a tutti io cerco di farvi perdere meno tempo possibile sono qua perché banalmente qualche giorno fa ho lanciato un appello in rete contro la guerra in Siria contro la guerra in generale ma in particolar modo contro la guerra in Siria i firmatari sono tutti i primi firmatari sono tutti qui e questo appello ha già raccolto credo oggi supererà le 21.000 firme che non è poco data la situazione uno di quelli che ha firmato l'appello vi potrà sembrare bizzarro è un generale dell'esercito in pensione ma è un generale dell'esercito perché l'ha firmato perché dice semplicemente che la guerra non serve più allora io torno mi riallaccio e dirò una cosa che stupirà in molti quando si diceva quando Stefano diceva che noi veniamo da esperienze che hanno vinto delle battaglie importanti beh io in queste battaglie vinte scusate ci metto anche quella sulla guerra e sulla pace lo sapevo che c'era il gelo ma se un generale dell'esercito italiano dice che la guerra non serve più significa che culturalmente questo paese non quelli che lo governano un passo avanti gigante lo hanno fatto ieri il Papa ha lanciato una giornata di digiuno e di preghiera io sono sicuro che il 99,9% degli italiani a vedere la faccia di la russa e anche di Letta che stavano lì a fare il digiuno mentre uno aveva bombardato l'Afghanistan fino all'altro ieri e quell'altro manda le navi davanti alle coste della Siria erano scandalizzati allora la battaglia sulla pace e sulla guerra qui stiamo parlando di una cosa grande enorme la costituzione italiana che si tiene tutta insieme e che dice che l'Italia ripudia la guerra e che non dice non dice che l'Italia come dire ripudia la guerra ma cede parte della sovranità sua per fare la guerra no l'Italia cede parte della sua sovranità ad organismi sovranazionali che assicurino pace giustizia e fratellanza tra i popoli questo questo dice la costituzione italiana guardate io lo so perché la costituzione italiana dice questo e dice che ripudia la guerra perché l'hanno scritta quelli che la guerra l'hanno fatta io la guerra l'ho vista non ho visto quella in Siria ma non è diversa da quello che ho visto in Iraq da quello che ho visto in Afghanistan da quello che ho visto in America Latina ne ho viste tante ne ho viste troppe e allora io dico e rivendico con orgoglio basta essere lamentosi e sfiduciati sul tema della guerra e della pace come diceva Stefano basta essere lamentosi e sfiduciati quella è una grande battaglia è una battaglia campale forse la più grande di tutti di fronte abbiamo il più straordinario apparato economico e industriale dopo quello della distribuzione dell'eroina nel mondo cioè la cosa che muove più danaro più potere in assoluto ma questa è una battaglia prima di tutto culturale e questa battaglia culturale la stiamo vincendo perché la guerra oggi è come dire conosciuta in quanto mostro in quanto da cacciare in quanto da allontanare il generale Mini dice la guerra non serve più perché non ci sono più guerre simmetriche perché oggi come dire le guerre sono asimmetriche non c'è un vincitore e un vinto non è vincitore chi vince militarmente non c'è più questa situazione per questo la guerra oggi è diventato uno strumento del tutto inutile oltre che barbaro orrendo allora molti dicono ma la guerra è insita nelle cose umane un'altra cazzata gigante scusate il termine la specie umana è l'unica specie che utilizza lo strumento della guerra ed è una deviazione rispetto all'ordine naturale delle cose non è l'ordine naturale delle cose la specie umana si è evoluta ha imparato a usare strumenti nuovi per accendere il fuoco ha imparato a fare tante cose impariamo noi a tenere fuori dalle possibilità della politica l'utilizzo dello strumento della guerra io sono assolutamente convinto della centralità di questo tema perché io non sono un pacifista io sono contro la guerra io penso che la guerra non sia come dire l'essere per la pace non è una cosa che sta lì legata la pace e la guerra si legano perché l'unico modo per costruire la pace per mantenere la pace e impedire non solo la guerra ma come dire anche le ipocritissime vergognose giustificazioni che muovono quelli che la guerra la fanno è la costruzione di diritti la ridistribuzione della ricchezza il bene comune tutte cose che nella nostra costituzione sono legate l'una all'altra strettissimamente e che devono continuare a essere legate non possiamo limitarci a essere come dire per il lavoro per il diritto al lavoro per il diritto ai beni comuni o per la pace queste cose l'una senza l'altra non possono esistere non a caso stanno insieme dentro la costituzione italiana ho finito allora costruiamo io vorrei un'ultima smisurata preghiera vorrei che si ascoltasse Stefano quando dice che dobbiamo parlare di cose alte che dobbiamo costruire cultura che dobbiamo costruire una nostra agenda politica non stiamo qui a ragionare sulle piccole cose che posso dire hanno rotto le palle alla gente la stragrande maggioranza della gente non ne può più di sentire le beghe dentro al PD le beghe dentro a questo le beghe dentro a quell'altro non ne può più costruiamoci usiamo il tempo che abbiamo e prendiamoci tutto il tempo necessario per costruire una nostra agenda politica forte per imparare un linguaggio nuovo con cui parlare della costituzione italiana che è un bene prezioso non per noi per il mondo intero siamo ne consapevoli abbiamo una responsabilità enorme sulle spalle non lasciamola cadere per favore grazie e buon lavoro grazie 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 Raffaella Bonini scomparsa Raffaella Bonini e si prepara Antonio Di Luca Dopo quest'ultimo intervento voglio solo dire una cosa, io spero che il dibattito, che la preparazione di questa alleanza, la costruzione di questa alleanza scatenerà nel nostro paese ci serva anche a essere capaci di ricostruire il senso della solidarietà internazionale al tempo della crisi e a non dividere fra quello che succede a casa nostra e quello che succede fuori. Il nostro paese è cambiato, non siamo più un paese ricco, non abbiamo più il senso di colpa dei ricchi che perché sono ricchi devono guardare i poveri nel sud e quindi probabilmente dobbiamo proprio reimparare come si fa battaglia per la pace e per la solidarietà internazionale al tempo della crisi. Io sono appena tornata da Tunisi, da una riunione che ha visto insieme i movimenti democratici di tutti i paesi del Maghreb. Ieri a Tunisi c'è stata una grandissima manifestazione nel quarantesimo giorno di anniversario dall'assassinio di Brahimi, un dirigente del fronte popolare. Sono paesi e movimenti che sono riusciti a cacciare i dittatori che si confrontano con pericoli ed avversari enormi e giganteschi e dove il futuro dei democratici, l'impegno dei democratici, la battaglia dei democratici su cui rischiano la vita e la morte si gioca tutta sull'esito delle assemblee costituenti. Tutta la battaglia in Egitto e in Tunisia è su far riuscire le assemblee costituenti. Lì si rischia la vita, tutti i giorni, per conquistare costituzioni che creino le condizioni della democrazia e dell'esigibilità dei diritti. Noi la Costituzione ce l'abbiamo, c'è chi dice che è la più bella del mondo e penso che veramente per rispetto a chi non ce l'ha e a chi muore per conquistarla, la prima cosa da fare è difenderla. Io sono di un'associazione dell'Arci che continua in perterrida da un sacco di anni a girare per le scuole d'Italia con la Costituzione tradotta in sacco di lingue, a discutere di Costituzione con i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e con i ragazzi migranti. Perché la Costituzione è lo strumento che dà il potere a chi non ce l'ha. Dà potere a tutti, ma dando potere a tutti e dando anche i limiti a chi ha troppo potere, dà il potere a chi non ce l'ha. Quindi io confido, sono sicura che domani quando la nostra associazione discuterà di questa proposta nella sua presidenza nazionale perché cerchiamo di mantenere perlomeno noi vivi i meccanismi democratici, non avremo problemi a metterci a lavorare insieme. Io vi ringrazio perché avete trovato la forza e la speranza necessaria per provare a costruire quello che oggi manca. Perché a noi quello che oggi manca è che le idee buone ci sono, le forze ci sono, ma le idee buone e le forze da sole non bastano. Serve, come diceva sempre Don Benettollo, serve costruire il campo di forze che è capace di far avanzare quelle idee e di dare forza a chi sta già in campo e noi quello che ci manca in tutto questo periodo, l'unica cosa che ci manca, perché c'ha ragione Rodotà, abbiamo più idee adesso che 15 anni fa, più proposte di alternativa adesso che 10 anni fa, ce l'abbiamo squadernato il progetto della democrazia, dei diritti e del cambiamento, non c'è il campo di forze, non siamo uniti, non ce la facciamo a stare uniti e la gente è frustrata. Io credo che la cosa principale che c'è nel Paese non è l'incazzatura, è la frustrazione. E' la frustrazione. E quello che serve è riuscire a rispondere a questo. Ho finito il mio tempo, dico solo, non sono frasi, sono solo parole, per dire delle cose che noi sicuramente diciamo dentro questo percorso ci porteremo. Una l'ho già detta, la questione dei diritti dei migranti, perché democrazia e cittadinanza moderna oggi senza quello non c'è. L'altra cosa è il diritto all'associazionismo, che guardate nel silenzio in questi anni è stato completamente messo in discussione, non solo sul fronte sindacale, non c'è democrazia se non c'è diritto dei cittadini ad associarsi per esigere i loro diritti e per partecipare alla vita pubblica. E l'altra cosa naturalmente è l'Europa. Lo strappo più grande e anche la vergogna per me più grande è stato il fatto che la modifica alla Costituzione con l'introduzione al pareggio di bilancio è stata fatta con una discussione in Parlamento che è durata 15 minuti. 15 minuti. E pensiamo anche, e finisco davvero, mi scuso, che non c'è solo la nostra Costituzione stracciata. E' stracciata la Costituzione greca dove i ragazzini svengono per la fame nelle scuole, dove partorire oggi costa 600 euro e ti tengono i ragazzini in ostaggio se non hai soldi per pagare. Te li tengono in ostaggio. Allora, siccome nessuno si salva da soli, nessuno si salva da soli, neanche noi, io spero che questo percorso sia un percorso che non sia italiano con collegamenti europei, deve essere europeo, perché noi italiani siamo lì dentro e se non siamo capaci a costruire il campo di forze con gli europei non ce la faremo. Grazie mille. Grazie Raffaella. Antonio Di Luca e si prepara Raniero Lavalle, Presidente dei Comitati Dossetti. Grazie. Antonio, Antonio, ti ha chiamato? Antonio, ti ha chiamato? Buongiorno a tutti. Io sarò brevissimo, perché prima cosa mi sento di dire, dopo queste diverse settimane che abbiamo assistito a qualcosa di disgustoso e di indegno dopo la sentenza della condanna di Berlusconi, il pregiudicato, ci siamo trovati dinanzi veramente a qualcosa di... Sì, ho detto, sono orgoglioso di partecipare a questa bellissima manifestazione per un semplice motivo, che dopo il disgusto di queste settimane che abbiamo provato tutti nel leggere le motivazioni della difesa, di come fare uscire dal cappello, dal cilindro e salvare il pregiudicato Berlusconi. Trovare qui di domenica mattina tante persone, io posso sicuramente dire che questa è la parte più bella, più sana, più etica, più morale del Paese in questo momento. E quindi vorrei partire però da una considerazione personale. Come sapete tutti, io sono, ma la maggior parte di voi, io sono un operario della Fiat di Pomigliano, che grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, voglio dire che nel dispositivo ha citato proprio gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, quindi io non sono rientrato in fabbrica soltanto perché quello era un dispositivo, insomma, dettato così, ma appunto citando articoli ben precisi della Costituzione, il 2 e il 3, quello della solidarietà, dell'uguaglianza, oltre a quello dei diritti sindacali. Però volevo farvi evidenziare e riflettere con voi su una cosa che parla della condizione e della Costituzione materiale, della difesa. Io in questa settimana, dopo la sentenza, abbiamo fatto dei presidi fuori dello stabilimento. Io vorrei farvi riflettere per immagine cosa può accadere nel momento in cui viene manomessa la Costituzione. Ieri il dottore Imposimato a Piazza Santi Apostoli ha detto preoccupatevi tutti perché quando si manomette la Costituzione, quando si manomette l'articolo 138 della Costituzione, che è il chiavistello di tutta la fortezza e la cassetta di sicurezza, la fortezza dei principi costituzionali, è il principio di una dittatura. Bene, io questa dittatura, insieme a tanti compagni, questa deriva autoritaria, già la sto vivendo con l'impianto costituzionale in atto. Ed è qui che voglio farvi riflettere cosa può accadere lontanamente nel momento in cui c'è una deriva. L'altro ieri abbiamo fatto, dopo la sentenza, abbiamo fatto un volantinaggio, come ci è solito fare fuori dello stabilimento di Pomigliano. Bene, io non ho mai visto un dispiegamento di forze dell'ordine in vita mia di questa portata, paragonabile solo alle notti bianche che abbiamo fatto il mese scorso, i due mesi fa. Una cosa ghiacciante. Io non so come trasmettervi questa roba qua, ma pensare che dietro il perimetro di un'azienda condannata più volte in 40 tribunali dal nord al sud del paese, compreso la Corte Costituzionale, come possa esistere che io mi devo trovare a fare volantinaggio e trovarmi nella garitta all'interno del perimetro aziendale, carabinieri, digos, polizia, al posto della polizia privata. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E le mie compagne dell'Irisbus, i compagni dell'Irisbus, 110 giorni di lotta, 110 giorni di lotta, la Costituzione lo prevede, una fabbrica che è dismessa, una fabbrica chiusa, l'unico stabilimento che produce autobus e noi abbiamo visto che cosa è successo, l'autobus e la strage del mese di agosto. Un autobus di 18 anni, 18 anni e oltre un milione di chilometri, tu chiudi l'unico stabilimento di autobus in Italia. E che cosa hanno chiesto dopo che abbiamo dovuto firmare un documento in cui, perché c'erano delle condanne che volevano chiedere, hanno chiesto un risarcimento d'anni a dei compagni che hanno fatto un presidio democratico e pacifico fuori lo stabilimento di 2 milioni e 200 mila euro. Ma vi rendete conto? Qua siamo proprio all'esasperazione, all'esasperazione dell'autoritarismo che si è provato prima nei luoghi di lavoro, si è sperimentato e noi l'abbiamo gridato alto in tutti i contesti dove abbiamo potuto parlare, l'abbiamo gridato, è stato provato scientificamente, l'esperimento sta riuscendo, c'è una forte resistenza grazie alla FIOM e di tanti altri movimenti e associazioni e poi si è dispiegato. Che cos'è non è altro che l'autoritarismo oppure il presidenzialismo oppure l'insofferenza verso le sentenze che c'ha Berlusconi o verso le insofferenze che ha il dottor Marchion nel momento in cui deve dare vita a una spiegazione della sentenza. Il punto è questo, noi siamo in pericolo e la deriva è proprio questa, cioè che la condizione materiale delle persone che vivono in carne e ossa la loro vita sarà condizionata irreversibilmente da una manomissione coattiva, coercitiva, in chiave presidenzialista, in chiave liberticida. Allora io penso e concludo, come diceva il dottor Rodotà prima, questo deve essere l'inizio di un grande percorso, deve essere l'inizio di un grande percorso, il dodici deve essere la sintesi più alta, la sintesi più alta di politica, di etica che deve veramente condurci come il documento ci prescrive. Il documento dice la strada maestra, io penso che la Costituzione sia la nostra strada maestra, però non basta avere una strada maestra, bisogna avere il coraggio e la determinazione e la resilienza di percorrerla. Grazie. Allora, adesso Raniero Lavalle e si prepara Federico Del Giudice. Grazie Presidente. Io vorrei a nome dei comitati Dossetti per la Costituzione ribadire la nostra partecipazione a questa mobilitazione, a questa lotta, a questa grande battaglia per i valori e per i diritti. Devo dire che questa mobilitazione di questi movimenti della società civile ha una grande importanza non solamente per creare, diffondere e costruire una coscienza popolare costituzionale, ma anche per svegliare il Parlamento, perché quello a cui noi stiamo assistendo è che questo Parlamento travolge la Costituzione nel silenzio e nell'indifferenza, senza quasi neanche accorgersi, le 15 minuti per cambiare l'articolo 81, nessuno che si era accorto della legge per la deroga all'articolo 138. E allora credo che questi movimenti abbiano proprio questo valore. Nessuno si sarebbe accorto, non sarebbe cominciata questa battaglia che stiamo facendo adesso se non ci fosse stata la grande assemblea, la grande manifestazione di Bologna del 2 giugno, i documenti dei giuristi contro la convenzione del 2 maggio, il documento dei giuristi contro la legge Grimaldello per la deroga all'articolo 138 del 10 giugno, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge da parte del governo. Quindi andiamo avanti. Certo è un inizio è stato detto, ma è sempre un inizio nel senso che quando si tratta di difendere dei valori o di ristabilire l'onore di cui parlava la professoressa Carlassare è sempre un nuovo inizio, bisogna sempre ricominciare da capo. Però non ci dobbiamo dimenticare che non comincia oggi la battaglia, dura da molti anni. Io credo che l'attacco alla Costituzione sia partito nel 1989, alla fine di un mondo quando non si è stati capaci di costruirne un altro, nel momento in cui era un momento costituente per un mondo diverso. E quindi questa nostra battaglia non è una guerra lampo, la chiamerei una guerra dei trent'anni, non è una corsa ad ostacoli, è una lunga maratona con una staffetta che passa da una generazione all'altra. E noi dobbiamo continuare in questa battaglia. E però nonostante questa lunga durata dell'attacco alla Costituzione non ci sono riusciti a distruggerla. La Costituzione è ancora lì, noi siamo stati capaci di farla durare, siamo stati capaci di difenderla. Ieri sera in piazza San Pietro c'erano centomila persone che erano accomunate da solo due cose. La prima è che erano tutti contro la guerra alla Siria. E la seconda è che erano tutti in un grande, impressionante, interminabile silenzio. Che in una società del rumore come quella nella quale siamo, mi pare sia stata una testimonianza straordinaria. Ebbene, in queste centomila persone in silenzio c'era un cartello dove c'era scritto articolo 11. Vuol dire che lì l'Italia era rappresentata non dai suoi governanti infedeli, ma era rappresentata dalla Costituzione. E siccome la guerra dei trent'anni è lunga, io vorrei un momento pensare al futuro. Certamente dobbiamo continuare le mobilizzazioni, l'assemblea del 12 ottobre, i documenti, la mobilizzazione dei giuristi, lo studio, le dottrine. Però io penso che questo non basti più. Per difendere la Costituzione questo forse non è più sufficiente. Bisogna forse fare qualche altra cosa. Io vorrei qui proporre un tema che so, non trovo tutti i concordi, so che è un tema discusso, è un tema controverso. Però io penso che se noi non riusciamo a fare un patto tra tutti i movimenti più sensibili, più consapevoli della società civile e anche con i partiti democratici, con i partiti della sinistra, un patto per la proporzionale, io credo che noi... Io credo che a lungo termine la Costituzione non riusciremo a difenderla più. Perché la proporzionale? Non è una tecnica elettorale, non è una tecnica un artificio per esprimere una classe dirigente, ma perché nel momento in cui, come tutti hanno detto, c'è in corso questo rivolgimento generale, questo cambiamento di un mondo, del mondo dei valori, delle regole, dei limiti al potere, questa idea affermata dalle banche che la democrazia e la Costituzione non è compatibile con la competizione capitalistica e con la globalizzazione. nel momento di questo grande attacco così globale e così radicale, ma chi è che sono le vittime? Non è più una classe o un'altra, non è una dottrina politica o un'altra, non è un'ideologia o un'altra, ma sono tutti i cittadini, sono tutti gli uomini, tutte le donne, tutti sono coinvolti e sono minacciati da questo travolgimento. E allora c'è un solo sistema perché questi tutti possano avere una rappresentanza, possano avere una presenza nei luoghi dove si decide, nei luoghi del Parlamento, la rappresentanza universale, il soffraggio universale diretto che riguardi tutti i cittadini senza sbarramenti, senza esclusioni, senza disboscamenti di nessun cespuglio, perché i cespugli sono quelli che diventano foresta, perché le minoranze sono quelle che fanno cambiare il mondo. E allora io penso che questo tema dovremmo almeno metterlo allo studio, cominciare a discutere se non sarà il caso di farne l'oggetto forse dell'ultima grande battaglia per la Costituzione. Federico del Giudice e si prepara Nanni a leva. Abbiamo ricevuto delle lettere, ora tra un po' proviamo a leggere qualcosa, ma intanto continuiamo con gli interventi. Buongiorno a tutti, non vi nascondo una certa emozione a parlare da questo palco. Vi invito per ragionare di attuazione della Costituzione o mancata attuazione della Costituzione, quando uscite, quando è finita questa iniziativa, a voltare lo sguardo verso destra, in cima, in questa strada, vedrete sullo sfondo il più grande Ateneo d'Europa. Vedete, domani di fronte a quei cancelli ci saranno migliaia di studenti che tenteranno la fortuna. Un test d'ingresso, un numero chiuso, che non solo per noi, per noi, non solo della rete della conoscenza, l'associazione che rappresento, ma per tutto il movimento studentesco che in questi anni si è mobilitato è sempre rimasto inascoltato. Per noi quello già è una violazione della Costituzione. Se poi pensiamo che per quel numero chiuso, imposto dall'Europa, nel 2018 si stima che ci saranno 22.000 medici in meno già di un sistema sanitario malato, noi vediamo già un'altra violazione frontale della Costituzione. Quando in Italia nelle scuole si stima che servano 10 miliardi di euro per rimettere in sesto l'edilizia scolastica, negli ultimi dieci anni sono stati spesi un miliardo e mezzo, solo e unicamente quando ci sono stati dei terremoti e dei tetti sono caduti sulle teste degli studenti, questa è una violazione della Costituzione perché un paese che aspetta dei morti per svegliarsi non è un paese che sta attuando la più bella Costituzione del mondo come ci siamo spesso detti. Un paese come il nostro che per la mancanza di diritto allo studio ma welfare in generale con un welfare vecchio che si poggia sulle famiglie un paese basato sulla precarietà quando nel nostro paese vediamo ripartire i giovani come succedeva anni fa ma non più con la valigia di cartone ma con i saperi appresi in questo paese ma che qui in questo paese non sono riconosciuti beh, questo è un paese che viola fortemente la Costituzione anche perché vi dico una cosa un paese che non investe in innovazione ha già scelto e ha scelto che la sua competitività internazionale sarà solo basata sullo sfruttamento e sull'abbassamento dei salari per questo e per altri motivi perché riteniamo che l'istruzione oggi e la ricerca siano il motore di un nuovo modello di sviluppo un diverso modello di crescita per questo noi a fine luglio abbiamo convocato una data studentesca per le scuole superiori l'11 di ottobre in 100 piazze cerchiamo di estenderle in tutta Italia con la data del 12 a questo punto noi cercheremo di far comunicare quelle piazze tutti quegli studenti che nelle proprie città scenderanno in piazza all'11 di ottobre possano riversarsi nelle strade di Roma il 12 e possano dire per loro per queste future generazioni cosa vuol dire l'attuazione di una Costituzione che oggi non hanno mai conosciuto perché noi non abbiamo mai conosciuto la nostra Costituzione per questo non è il tema la difesa della Costituzione ma il tema è l'attuazione il tema è l'estensione e però su questo non possiamo neanche sempre solo delegare ci sono tantissime iniziative e noi dobbiamo estenderle di solidarietà e mutualismo è vero che non basta però se questa deve diventare un'alleanza qualcuno l'ha chiamata una coalizione sociale io non so come chiamarla però dobbiamo estendere tutte quelle pratiche dal basso di mutualismo di solidarietà perché la non attuazione della Costituzione è un peggioramento immediato delle condizioni di vita degli italiani e quindi per questo però serve muoversi subito allargando subito quella che è la platea di questa sala convocando delle iniziative che però siano aperte in luoghi aperti nelle nostre città in cui noi ci riprendiamo le nostre città torniamo a viverle in qualche maniera in cui torniamo ad ascoltarci cosa che spesso non è successo ma soprattutto oltre alla preparazione penso che sarà importante il rilancio come noi usciamo da quella data è ovvio non possiamo non possiamo dircelo oggi ma dobbiamo costruirlo con le iniziative preparatorie ma ci sono tantissime cose in campo penso al fatto che quest'anno per la prima volta il nostro Stato dovrà presentare il proprio bilancio alla Commissione Europea penso al fatto che andrà costruita una legge di stabilità penso a una battaglia generale politica per l'attuazione e l'estensione della Costituzione anche su singole battaglie in cui ci sia una vera solidarietà attiva penso a quelle che sono state le battaglie degli operai dentro le fabbriche penso alle battaglie per i beni comuni penso all'ottimo esempio che ci proviene da Bologna dal referendum che si è svolto in questa città cioè in quella città per riconquistare un'istruzione pubblica e non in maniera ideologica ma perché istruzione pubblica perché istruzione pubblica vuol dire istruzione di tutti vuol dire istruzione democratica vuol dire riattivare in questo Paese un dibattito su come oggi si può cambiare anche dal basso con la partecipazione con la democrazia gli istituti della stessa democrazia e io penso che appunto l'istruzione sia una di queste quindi ricomponiamo appunto non facciamo le cose come spesso si è provato a fare veloci oggi bisogna pensare ai tempi lunghi bisogna pensare alla solidarietà attiva continuativa per cui quando qualcuno costruisce una battaglia per la vera attuazione e la vera estensione della Costituzione in qualche maniera si ritrova tutti dietro e ci ritroviamo tutti uno fianco a fianco questo è centrale perché io ho paura che in questa fase e concludo specialmente i movimenti sociali penso a quello studentesco ma non solo penso a chi è costretto a occupare una casa perché un tetto non ce l'ha penso a chi per fare attività di mutualismo e solidarietà prende uno spazio e lo ridà all'uso pubblico contro la speculazione edilizia come è successo in questo in questo quartiere che sta qua dietro San Lorenzo ecco io ho paura che come abbiamo vissuto spesso negli ultimi anni ci sia un muro forte dall'altra parte noi dobbiamo provare piano piano a scalfire quel muro noi dobbiamo in qualche maniera piano piano provare a ricostruire un'egemonia culturale in questo paese grazie e buon lavoro adesso Nanni alleva e si prepara Sandro Mettici gli ultimi vent'anni gli anni del berlusconismo sono stati per quello che riguarda il lavoro gli anni di un nuovo gelo costituzionale la costituzione era riuscita a permeare l'ordinamento del lavoro ovvero l'ordinamento del lavoro aveva accolto in sé i principi costituzionali in un lungo travaglio durato in sostanza dal dopoguerra alla fine degli anni 80 sia sul piano collettivo sia sul piano individuale e questo rendeva il nostro ordinamento del lavoro diciamo un modello a livello internazionale in questi venti anni si hanno sono rovesciati questi valori sia sul piano collettivo cioè quello della rappresentanza del lavoro sia su quello individuale dei diritti del singolo lavoratore sul piano collettivo si è voluto che la contrattazione collettiva che era il mezzo attraverso il quale la classe operaia le classi lavoratrici affermavano il proprio progresso la propria emancipazione diventa invece il modo con cui si riescono a scalfire i diritti fondamentali previsti dalle leggi adattandoli all'esigenza mutevole delle imprese e la rappresentanza dei lavoratori si pretende che tragga origine in realtà non da un rapporto diretto dei lavoratori in questione sindacale ma da un rapporto con il datore di lavoro per cui tutta la materia sindacale diventa una materia che riguarda in qualche maniera l'ausilio e l'impresa e questo guardate che è diventata era diventata spero di poterne parlare al passato una ideologia compatta quella che c'è stata portata che c'è stata diciamo rappresentata dalla Fiat nella notissima vertenza di fronte alla corte costituzionale abbiamo parlato di questo abbiamo parlato esattamente di questo cioè il sindacato i lavoratori sono una funzione dell'impresa oppure vi è come dice la costituzione un rapporto dialettico un rapporto giusto inevitabile antagonismo la corte costituzionale ha detto delle parole inequivocabili ricordando appunto che non è dal rapporto con l'azienda che il sindacato trae la sua funzione e i suoi mezzi i suoi scopi ma dal rapporto con i lavoratori e per questo evidentemente non si può espellere come intendeva il fatto della Fiat il sindacato che si rifiutasse di accedere a certe prezesse e la corte costituzionale però ha nell'ultima righe detto una cosa più importante bisogna che questi principi diventino presto legislazione legislazione in materia e allora io mi chiedo ma come possono diventare legislazioni in questo in questo momento politico c'è la possibilità tanto più che Marchionne cambiando fronte apparentemente ha subito preteso dopo averlo sempre negato evidentemente che a questo punto vi sia una legge sulla rappresentanza sulla rappresentanza sindacale da noi invocata da tanti anni adesso lo pretende lui addirittura minaccia che se ne andrà non investerà più nulla se non vi sarà una legge sulla rappresentanza sindacale ci farebbe quasi sorridere questa cosa se non fosse che sappiamo perfettamente qual è la legge che vuole Marchionne e che vuole la Confindustria è una legge che faccia nella rappresentanza sindacale qualcosa di che si muove sotto tutela più una gabbia per gli interessi e la volontà dei lavoratori che un modo di espressione che cosa quindi ma dei contratti nei quali si sancisca in qualche modo una tutela non della minoranza ma una diciamo una dittatura della maggioranza basta che le rappresentanze sindacali uno o due o tre di certi sindacati possano in un certo momento essere in maggioranza perché questo vincoli tutti i lavoratori e attenzione con un'incidenza diretta sul diritto di sciopero per il tipo 40 allora noi tutti potremmo essere lieti di affrontare questo scontro giuridico politico se non sapessimo che oggi ancora non è cambiato nulla purtroppo con il governo Monti con il governo dell'argentese comanda sempre quella medesima ideologia comanda sempre quella parte politica che ha voluto l'articolo 8 che ha che vuole che la contrattazione collettiva della rappresentanza sia una funzione dell'impresa e lo vediamo anche sull'altro piano dei diritti individuali questi 20 anni sono stati quelli in cui la forma normale di lavoro è diventata il precariato 93% dei nuovi contratti di lavoro che si fanno ogni anno sono contratti di lavoro precari lo sono in maniera illegittima intendiamo ci sono erano perlomeno in maniera illegittima tanto che noi abbiamo avuto delle leggi la legge collegato a lavoro il quale ha cercato di impedire che i lavoratori potessero fare causa ma adesso dopo l'articolo 8 abbiamo avuto ora con la legge 99 del 2013 la conferma che comanda sempre Sacconi che comanda sempre la confindustria perché i contratti a termine che ormai sono la forma normale di contratti potranno essere acausali cioè non collegati alle licenze temporanee solo che lo voglia un contratto collettivo anche aziendale ma come si fa il contratto collettivo aziendale quali caratteristiche ha torniamo al primo problema dico ancora e scusate se vi rubo un minuto che tra le norme più violate meno considerate vi è anche l'articolo 38 della Costituzione quell'articolo che garantisce a chi non ha mezzi non ha lavoro i mezzi di sussistenza noi abbiamo avuto delle leggi quelle che hanno dato luogo agli esodati che sono una un esempio diciamo addirittura di scuola di incostituzionalità mi dispiace perché sono leggi che portavano appunto un peggioramento della prospettiva di ottenere un giocobatico infine mi dispiace ma ci sono molti iscritti e ce la facciamo ecco l'unico concetto era semplicemente questo la la mala considerazione della continuità del berlusconismo oltre berlusconi perché di questo che stiamo trattando ci porta una considerazione semplicissima occorre che il lavoro abbia una nuova rappresentanza politica Sandro Medici poi Paolo Ferrero e poi Alberto Lucarelli dunque noi puntiamo a chiudere fra le due e mezzo e le tre chiuderà Maurizio Landini se tutti stanno nei cinque minuti ce la facciamo altrimenti no quindi vi prego di rispettare i tempi fuori si sono organizzati per raccogliere i contributi per pagare la sala mi raccomando chiedo a tutti di dare qualche cosa silenzio in sala silenzio in sala viene chiesto come come molte come molti qui stamattina siamo perché questo è il posto giusto in cui qui bisogna stare il posto giusto che offre un'occasione non soltanto per consolare anime un po' sperdute naufraghi di varie avventure ma perché questa è un'occasione di battaglia politica che non soltanto oggi ci richiama un dovere una responsabilità come diceva prima Flores cioè quella di difendere di attuare se è possibile non vorrei apparire blasfemo anche di migliorare questa nostra costituzione per esempio sui temi dei diritti sociali su sulle forme della democrazia democrazia diretta partecipata condivisa ebbene questo è il posto giusto anche perché insomma ognuno è libero ma o si sta in una sala come questa stamattina oppure si rischia di essere amici degli strateghi delle banche d'affari si rischia di essere i serventi al pezzo di quelli che intendono stravolgere l'ordinamento democratico di questo paese insomma si rischia di stare dalla parte sbagliata quindi ecco perché stamattina siamo qui tanti tanti eccetera siamo anche qui per un'altra ragione almeno forse non tutti ma sicuramente quasi tutti per le cose che diceva Rodotà chiudendo il suo intervento e cioè che l'intenzione di questi nostri amici che hanno promosso questa campagna è quella di rispondere al vuoto della politica che è una definizione indulgente generosa diciamo così di rispondere a questo vuoto con l'apertura di uno spazio pubblico lo riprendeva con forza Paolo Flores uno spazio pubblico che cosa deve essere in una fase così complicata come questa che viviamo beh deve essere un'occasione un'opportunità di offrire a tutto questo questa grande energia questi globuli rossi che girano per il paese dalle valli piemontesi agli altopiani siciliani ebbene tutte queste realtà che occupano le case che cercano di rimettere in moto le fabbriche che sono state abbandonate che occupano i posti e ci fanno i centri antiviolenza che si mettono a disposizione delle comunità territoriali ebbene tutto questo grande mondo sociale questa movimentazione che c'è in questo paese che ha bisogno di avere spazi e luoghi esattamente come questi allora io chiudo i cinque minuti sono assolutamente da rispettare se è ben chiaro come si sta componendo il fronte che vuole devastare questo paese diciamo è un po' esitante il fronte che dovrebbe invece contrastarlo su questi contenuti questi qui che ci sono stati detti stamattina altri su cui possiamo tutti contribuire ci mancherebbe e allora a me mi viene da dire che se non riusciamo ad autorappresentarci ad autogovernarci a inventarci una nuova forma della politica ebbene la responsabilità è nostra e allora questa è un'occasione che non possiamo lasciarci scappare grazie paolo ferrero salve a tutti e a tutte io vorrei iniziare con un ringraziamento a chi ha convocato questa assemblea perché è del tutto evidente lo dice uno che fa il segretario di partito che nessuno altro avrebbe avuto l'autorevolezza per convocare un'assemblea così necessaria per convocare una manifestazione così necessaria per chiudere in Italia una situazione che è disperante in cui gli individui stanno male le persone soffrono ma vivono la loro disperazione sovente individualmente e non riescono ad uscire da questa cappa io penso che c'è bisogno di ricominciare la politica la politica vera e ringrazio voi perché ci avete permesso di riaprire questo questo è il punto per quanto ci riguarda faremo il possibile affinché la manifestazione riesca affinché il percorso di costruzione sia il più largo il più partecipato possibile considero l'unione dei due temi della costituzione del lavoro un punto centrale noi rischiamo che nella sofferenza della disoccupazione della precarietà il tema della democrazia venga vissuto come un lusso che non c'entra niente con la quotidianità rischiamo addirittura che nella fascia della politica le spinte presidenzialiste vengano vissute da una parte di società come tutto sommato meglio di quello che c'è oggi noi rischiamo un'uscita da destra della crisi sociale e della crisi della politica e allora per questo tenere assieme il lavoro e la democrazia io penso sia un punto fondamentale e vorrei aggiungere anche una cosa io sono d'accordo con Stefano Rodotà che la politica è muta ne faccio parte io credo che bisogna capire come mai è successo io penso che questa cosa è successa da quando il neoliberismo è diventata la religione per cui la politica ha smesso di incidere positivamente sui destini della gente per consegnare alle banche alle multinazionali alla banca centrale europea ai grandi commi le decisioni sulla vita della gente la politica non ha più avuto alcuna efficacia da quando si è sottomessa ai voleri di questi poteri e secondo me c'è un'altra cosa e si chiama bipolarismo da quando la politica è diventata la rappresentazione teatrale di uno scontro tra simili che poi a prescindere da chi governava continuavano più o meno le stesse politiche tant'è tant'è che oggi governano insieme io penso che questa qui è morta la politica e si può anche urlare da fuori ma si ha difficoltà a costruire credibilità perché si è rotto un nesso ed è il nesso tra azione politica ed efficacia nella vita della gente la gente pensa meno la politica si occupa di me meglio è perché tutte le volte che si occupano di noi ci fanno un disastro lo stesso rovesciamento della parola riforma parla di questo allora io penso che ci sia un nodo e il nodo è l'attacco alla democrazia la distruzione della democrazia e l'altra faccia del neoliberismo è vero che questa globalizzazione neoliberista tende a distruggere la democrazia perché loro volendo avere libertà sui capitali sullo sfruttamento del lavoro ritengono un ostacolo il welfare il sindacato e la possibilità che i popoli possano dire la loro lo si è vista la reazione su cosa ha votato il parlamento inglese fermando il premier cameron rispetto alla guerra loro vogliono poter andare avanti senza il disturbo della partecipazione della gente allora per questo grazie per questo c'è bisogno della manifestazione aggiungo una cosa nel minuto che mi rimane perché io sono totalmente d'accordo con l'intervento di Flores d'Arcais e voglio essere anch'io il più limpido possibile io spero auspico che dalla costruzione di questa mobilitazione possa venire fuori la costruzione di uno spazio pubblico di sinistra noi noi non abbiamo aspettate aspettate noi non abbiamo bisogno di un nuovo partito e non abbiamo bisogno di ripetere gli errori fatti io sono un soggetto che ne ha fatti di questi errori abbiamo provato la federazione non ha funzionato abbiamo provato rivoluzione civile non ha funzionato io mi sono venuto convincendo di una cosa ogni accordo che sia un patto di vertice tra gruppi dirigenti non funziona non funziona e allora allora a me piacerebbe allora a me piacerebbe una strada non non c'ho più il tempo non perdete tempo in applausi a me piacerebbe una cosa che i nostri amici amiche compagni e compagne che ci hanno convocato stamattina facessero da garanti di un processo sono persone di cui tutti noi che siamo qua ci fidiamo abbiamo sentito le cose che ci hanno detto che facessero da garanti di un processo garanti che permettano la più langra partecipazione una testa un voto tutti uguali che si abbia o non si abbia la tessera di un partito che si stia o non si stia in un'associazione ma tutti uguali nella costruzione di uno spazio pubblico che abbia un indirizzo questo a me parerebbe la cosa da fare perché c'è una cosa che noi non ci possiamo permettere che mentre tutta Europa lotta contro il neoliberismo mentre in tutta Europa c'è una sinistra degna di questo nome che l'Italia sia il punto più disastroso sul piano sociale e politico questo non ce lo possiamo permettere e questo io credo sta nelle nostre mani Poi Antonio Ingroia Prossima settimana abbiamo una settimana in cui si può consumare l'attacco mortale si può consumare l'attacco mortale alla Costituzione si vuole colpire si è già colpito si vuole colpire in via definitiva l'articolo 138 della Costituzione l'articolo 138 come è stato più volte detto è un principio fondativo è un principio secondo il più autorevole Silenzio per favore cercate di far parlare se no perdiamo tempo ed è un principio immodificabile sicuramente non modificabile con un sistema che vuole porre in un angolo il ruolo e la centralità del Parlamento che vuole assegnare a un gruppetto di saggi o saggetti la possibilità di modificare in via attenzione in via definitiva perché qualcuno ha parlato oggi di deroga in realtà non è una deroga la modifica all'articolo 138 perché darà la possibilità di intervenire in via definitiva sulla forma di governo sulla forma di Stato sui rapporti tra Stato regione e denti locale e forse anche sulla magistratura sono state raccolte è stata raccolta circa mezzo milione di firme dalla petizione appunto del fatto tra i primi firmatari Alessandro Pace che purtroppo non vedo oggi qui Gianni Ferrara tante associazioni come viva la Costituzione io credo che quello che si sta per consumare è il completamento di un progetto di un progetto che parte alla fine degli anni settanta progetto che vedeva protagonisti Giuliano Amato che vedeva protagonisti Bettino Craxi che vedeva protagonisti Bassanini che hanno fatto già una serie di riforme negli anni novanti anche la riforma del titolo quinto della Costituzione che ha colpito già al cuore la nostra Costituzione io ricordo un articolo del 79 di Giuliano Amato pubblicato in Mondo Operaio la grande riforma e la grande riforma ci stava quel progetto un progetto liberista un progetto presidenzialista un progetto fondato sulla cultura del maggioritario ancora di più del sistema maggioritario della cultura del maggioritario che significa negare i diritti alle opposizioni significa negare i diritti alle minoranze significa negare i principi fondativi del nostro sistema costituzionale che se voi vedete come sono formati gli organi come devono essere formati gli organi a partire dalla Corte Costituzionale Consiglio Superiore della Magistratura l'approvazione dei regolamenti parlamentari si fonda sul principio proporzionale sul principio proporzionalistico vedete al di là quindi di questo momento ovviamente tragico che colpisce al cuore uno dei punti fondativi del nostro sistema costituzionale come è stato detto più volte io sono assolutamente d'accordo che la vera battaglia è la battaglia non solo per la difesa ma anche per l'attuazione di tutte quelle parti della nostra Costituzione che sono state che sono continuamente o disapplicate o disattese o violate è stato ben detto è stato ben detto è stato ben detto che recentemente a porte chiuse praticamente è stato modificato l'articolo 81 della Costituzione guardate l'articolo 81 della Costituzione che attiene all'introduzione del nostro sistema costituzionale del pareggio di bilancio e del ricepimento delle culture peggiori del liberismo economico che provengono appunto da quel diritto europeo tutto appiattito sul mercato sulla concorrenza e che nega lo Stato sociale e che nega i diritti fondamentali quindi quando si è colpito l'articolo 81 praticamente a camere chiuse approvandolo in seconda lettura a maggioranza dei due terzi non dando neanche la possibilità quindi del referendum confermativo si è colpito lo Stato sociale perché significa togliere 50 miliardi di euro all'anno alla scuola agli ospedali agli asili nido ai soggetti più deboli alla scuola all'università alla conoscenza significa il grosso attacco è stato quello l'attacco all'articolo 81 della Costituzione e poi ovviamente attuazione della Costituzione significa rispettare l'articolo 11 l'articolo 11 lo dice chiaramente il ripudio della guerra mi sembra che tutta una serie di azioni di politiche legislative e di politiche attuali sembrano completamente disattendere l'articolo 11 ricordandoci tra l'altro anche un'altra cosa che il diritto europeo non impone sempre e in ogni caso il recepimento di quello che viene dall'Europa perché la Corte Costituzionale l'ha detto che c'è un nocciolo duro che attiene appunto a tutti quei principi riconducibili non solo allo Stato di diritto ma allo Stato sociale che non possono essere in nessun modo negati e violati dall'Europa e dal diritto europeo ricordiamoci di questi passaggi fondamentali che anche la Corte Costituzionale più volte ha detto così come articolo 1 della Costituzione e centralità del lavoro significa anche rispettare le grandi conquiste attuative dell'articolo 1 pensa all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori così velocemente ferocemente eliminato e espulso dal nostro ordinamento giuridico e ancora di più la cosa ancora più grave è che tutte quelle firme che sono state raccolte l'anno scorso per poter fare il referendum abrogativo avverso l'articolo 18 sono state praticamente buttate in un cestino perché il Parlamento è stato sciolto al nostro Capo dello Stato nel 2012 a pochi giorni dal 2013 se le Camere fossero state sciolte nel 2013 il referendum si sarebbe potuto fare tecnicamente invece il Capo dello Stato ha ritenuto di sciogliere nel 2012 per cui la volontà referendaria la volontà referendaria espressa in quel momento così forte attraverso tutte quelle firme raccolte è stato negato e poi chiudo articolo 1 della Costituzione significa anche non solo sempre monopolio della democrazia della rappresentanza io credo che oggi questo non è stato detto in maniera forte io credo che la democrazia partecipativa debba riprendere debba avere un ruolo forte la democrazia partecipativa passando innanzitutto passando innanzitutto per il rispetto per il rispetto dell'ultima volontà referendaria espressa nel 2011 quando 27 milioni di cittadini non si sono espressi solo e unicamente per l'acqua bene comune ma si sono espressi per un modello economico politico culturale sociale alternativo grazie allora Antonio Ingroia ecco e poi si prepara Procaccini metto il cronometro così controllo e allora io credo e mi associo al ringraziamento degli organizzatori di questa assemblea agli estensioni del documento che bisogna dire innanzitutto grazie e dire e io lo dico intanto a titolo personale che ha certamente ragione in quelle cose che ha detto Stefano Rodotà ebbene in quel documento la via maestra si individuano le parole chiave e gli obiettivi sia sul cosa fare sia sul come fare e il cosa fare significa difendere la Costituzione da un disegno eversivo reazionario e restauratore che vuole abbattere lo Stato di diritto democratico perché questa è la posta in gioco bisogna difendere questa Costituzione per attuarla e per attuarla nei suoi diritti nei suoi principi fondamentali una Costituzione che è stata sfregiata in questi anni una Costituzione materiale sempre più lontana dalla Costituzione formale e oggi si vuole manomettere la Costituzione formale per adeguarla a quella materiale bene questa è la posta in gioco e noi siamo quasi quasi all'ultima spiaggia siamo quasi all'ultima spiaggia perché in realtà questo progetto si diceva bene prima è un progetto che viene da lontano è il progetto di Licio Gelli è il progetto della P2 che il Gran Maestro aveva progettato negli anni Ottanta che Silvio Berlusconi obbediente alla stessa loggia ha portato avanti in questi vent'anni e che sino ad oggi era stato fermato per una forte opposizione nel Paese e anche un'opposizione nel Parlamento oggi non c'è una vera opposizione di sinistra nel Parlamento è il paradosso che il progetto piduista di Licio Gelli sia per essere attuato con una maggioranza che sostiene un governo il quale Presidente del Consiglio viene da un partito di tradizioni dimenticate dal Partito Democratico e il quale Presidente della Repubblica è notaio di questa manomissione della Costituzione che sta avverendo a questo a questo a questo noi abbiamo il diritto ma anche il dovere di opporci ma il problema non è soltanto cosa fare ma giustamente come farlo e alcune parole d'ordine dette da Stefano Rosatale condivido tutte no autoreferenzialità dobbiamo abbattere gli steccati i personalismi i settarismi lo so per carità so che la mia prima esperienza politica è associata a un'esperienza di rivoluzione civile che molti di questi difetti e molti di questi limiti ha perfino enfatizzato lo so so che abbiamo commesso errori me ne attribuisco la mia parte di responsabilità credo di essere stato anche non solo responsabile ma anche vittima diciamo della fretta che diceva Stefano Rodotà noi non dobbiamo avere noi non dobbiamo avere fretta però d'altra parte non possiamo consentirci il lusso dell'attendismo perché siamo in una fase di emergenza costituzionale e di emergenza democratica e non possiamo perché purtroppo i tempi corrono perché Berlusconi tiene sotto ricatto il governo alla presidenza della Repubblica chiede un salvocondotto e chiede la manomissione della Costituzione pur di mantenere con una respirazione artificiale in vita questo governo e questa maggioranza sono disposti a tutto anche a mettersi d'accordo con il pregiudicato e con il nato Silvio Berlusconi per questo per questo non c'è più tempo e allora dobbiamo rovesciare la prospettiva diceva Rodotà e sono d'accordo è giusto aver fatto un'assemblea aperta è giusto uscire dalle stanze dei leader dei movimenti e dei partiti costruire un movimento aperto come questa assemblea aperta costruita dal basso nel quale il popolo della sinistra si unisca invece che frammentarsi questa è una sfida sulla quale tante volte tanti progetti si sono infranti e sono andati incontro a sconfitte e a fallimenti proviamoci dobbiamo riprovarci perché dicevo bisogna osare è il momento in cui non bisogna avere fretta ma non si può stare fermi e non lottare è già perdere e se vogliamo vincere noi dobbiamo fare come oggi l'assemblea di oggi è già una vittoria politica importante per la sua partecipazione ampia ed aperta è così numerosa e allora dico e chiudo io vedo che questo popolo che chiede una resistenza e una mobilitazione costituzionale c'è si è espresso in modo incredibile con l'appello del fatto quando io ho proposto ad Antonio Padellaro a fine estate di pubblicare quel appello sul fatto sapendo che soltanto un veicolo di grande informazione poteva mettere insieme i tanti noi pensavamo che si potesse arrivare tutta al più a 100.000 firme che quello sarebbe stato un successo essere arrivati quasi a 500.000 firme dimostra che c'è una volontà di partecipazione straordinaria allora noi quella volontà di partecipazione la dobbiamo mettere insieme trasformare trasformare appunto in un movimento aperto che si manifesti quel 12 ottobre in una manifestazione che sia aperta mettiamo insieme questo popolo che sa arrivo a concludo che sa da che parte stare contro la guerra contro le ingiustizie contro l'impunità per la pace per la giustizia e per l'uguaglianza questa costituzione che mi hanno regalato poc'anzi la sfogliavo ho l'impressione che non sia aggiornata perché dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e l'Italia non è più una repubblica fondata sul lavoro che dice che i cittadini sono tutti uguali e l'Italia non è più un'Italia di uguali bene allora noi dobbiamo innanzitutto attuarla questa costituzione difenderla per attuarla il popolo che vuole difenderla c'è sa da che parte stare è un popolo a me piace chiamarli di partigiani partigiani della costituzione noi dobbiamo cambiare noi dobbiamo cambiare non la costituzione noi dobbiamo cambiare il paese e solo cambiando il paese ci toglieremo la tentazione soprattutto alle più giovani generazioni di cambiare paese grazie grazie Antonio adesso Cesare Procalcini poi si preparano ve lo dico di corsa Moretto professor Maddalena e Elisabetta Rubini grazie buongiorno a tutti e a tutte che siete siamo qui per difendere la costituzione ed anche per attuarla il professor Stefano Rodotà diceva che in una condizione normale non ci sarebbe stato bisogno di un'assemblea di questo tipo per salvare la carta principale di uno Stato del nostro Stato invece questa necessità non solo c'è ma desta un'allarme perché il tempo rischia di essere breve di scadere perché la costituzione materiale di fatto è stravolta in larga parte e quella formale rischia di essere cambiata per legge questo fatto ha bisogno di una grande unità di una vastissima unità senza gelosie di una grande unità nella diversità dove ognuno deve esercitare il proprio ruolo senza gelosie altrimenti saremo sconfitti perché i partiti i partiti politici quelli seri senza i movimenti diventano aridi e il movimento come abbiamo visto sulla guerra senza una sponda politica rischia di nascere e morire occorre quindi nell'ambito di ognuno esercitare una grande battaglia una grande mobilitazione contro un pericolo che ha tempi lunghi il neoliberismo si è affermato per un fatto preciso perché dopo l'89 in Italia nel mondo in Europa si pensava che si dispiegasse la pace la democrazia il paradiso terrestre abbiamo visto che non è stato così che ci sono state nuove guerre e peggiori dittature in Europa e nel mondo abbiamo visto che quei partiti che hanno abbandonato gli strumenti della critica oggi sono costretti a governare costretti o compiacenti con la destra che ha assunto un'egimonia culturale anche sulla Costituzione e uno dei paradossi dell'Italia il più grande paradosso secondo me e porto da questo punto di vista il piccolo ma grande contributo di una storia quella del comunismo italiano che oggi noi modestamente riusciamo a rappresentare nel PTC che ha messo al suo centro del congresso la necessità di attuare la Costituzione ma dicevo a questo grande paradosso che negli anni del dopoguerra per tanti anni il Parlamento della Repubblica è stato il luogo dello scontro della mediazione di portare lì anche la contraddizione capitale lavoro ma nel complesso è stato il luogo dove si cercava di attuare la Costituzione oggi questo paradosso che il Parlamento che dovrebbe attuare la Costituzione sta distruggendo la Costituzione quindi spetta a tutti noi chiamare al popolo una grande mobilitazione per difendere e per attuare la Costituzione Bruno Moretto per favore ci sei? eccolo mi chiamo Bruno Moretto e sono qui per conto del comitato articolo 33 di Bologna vi ringrazio perché il referendum l'abbiamo vinto l'abbiamo vinto e non potevamo non esserci per due motivi primo quello il tema fondamentale di questa giornata di cui dobbiamo ringraziare i cinque proponenti che è la Costituzione perché la battaglia che abbiamo fatto noi e che viene da una battaglia di 15 anni del mondo della scuola è stata fatta nella convinzione che la scuola sia al centro della Costituzione come diceva Calama Andrei è l'organo istituzionale che funziona come il cuore per la Costituzione quella la scuola che rende esigibili i diritti i principi fondamentali della Costituzione che sono quelli dell'uguaglianza dei primi articoli e quello della solidarietà quindi la battaglia che abbiamo fatto e che hanno capito bene i cittadini di Bologna è stato fatto per questo per difendere questo principio fondamentale per cui nella Costituzione nell'articolo 33 così noi ci siamo chiamati si dice con chiarezza che la Repubblica cioè tutti noi la res pubblica tutti quanti insieme non solo gli organismi tutti quanti i cittadini devono istituire scuole pubbliche per tutti e per tutti gli ordini e gradi e non c'è possibilità di sostituire questo principio facendo intervenire degli altri soggetti come quelli privati che hanno altre finalità che non possono garantire questo principio di uguaglianza come invece si è cercato di fare in questi ultimi anni perché il referendum su che cosa verteva sul fatto che mentre ormai anche a Bologna dove è nata la scuola dell'infanzia dove è nato il tempo pieno non si trova più posto nella scuola pubblica dall'altra parte il comune di Bologna mica solo il comune di Bologna tanti altri comuni e regioni finanziano lautamente oltre che lo Stato le scuole private sostenendo la bestemmia che quelle possono avere una funzione sostitutiva di quella costituzionale della scuola della Repubblica allora partendo dal fatto da questa esclusione abbiamo intrapreso questa impegno per un referendum consultivo perché nel comune di Bologna si possono fare solo referendum consultivi e come è stato fatto questo questa è l'altra cosa importante che ci vede che ci ha spinto a venire qui l'abbiamo fatta tutta dal basso partendo dai cittadini dalle scuole dai genitori dagli insegnanti 15 associazioni avevamo dietro ma i promotori erano 400 cittadini qualunque e quella è stata poi la forza la nostra la forza che per cui è passata abbiamo avuto tutti contro tutti i cosiddetti poteri forti e con noi solo alcuni partiti però dentro i 15 c'era un'associazione della scuola c'era la FIOM c'era la FLC CGL c'era Nicoba insomma siamo riusciti a fare un fronte ampio mettendo insieme tante esperienze diverse e questo ha contato l'abbiamo visto all'inizio raccogliendo il triplo delle firme che servivano per poterlo fare e poi l'abbiamo visto al momento del voto nonostante ripeto sia intervenuto pure il cardinale Bagnasco sul referendum di Bologna per capire il livello dello scontro i cittadini di Bologna sono andati a votare e hanno votato per la scuola pubblica al 60% 60% e soprattutto ed è questo che credo possa servire a tutti quanti abbiamo vinto in tutte le zone popolari di Bologna in tutti i quartieri popolari e l'ipotesi che sosteneva che bisognasse continuare a finanziare con un milione di euro all'anno il comune di Bologna finanzia per un milione di euro all'anno le scuole private che bisognava continuare a finanziarle è stata vinta questa tesi solo nelle zone più ricche di Bologna quelle dove appunto vivono le persone che poi mandano i loro figli alle scuole private cosa è successo poi che l'esito del referendum era affidato dallo statuto al consiglio comunale e il consiglio comunale ha avuto la spudoratezza di votare a larghissima maggioranza con i voti di PD PDL Lega Uniti per non applicare il risultato del referendum questo lo voglio evidenziare perché ci sono stati altri esempi di referendum non applicati ma qui abbiamo un voto del consiglio comunale che dice me ne frego di quello che hanno deciso i cittadini apertamente dice confermo i finanziamenti come prima come prima io credo che questa nostra esperienza sia stata una di quelle esperienze di rilegittimazione della Costituzione di cui parlava bene il professor Rodotà che noi abbiamo avuto l'onore di avere come presidente onorario è una di quelle esperienze che faccia vivere davvero la Costituzione perché come diceva giustamente che la mandrei la Costituzione poi è un pezzo di carta su cui sono scritte delle cose se lo lasci cadere resta lì per terra perché funzioni davvero ha bisogno dell'impegno e della passione di tutti noi grazie grazie professor Maddalena grazie a presto grazie a presto grazie a presto grazie a presto voglio voglio anche esprimere voglio esprimere il ringraziamento ai promotori voglio esprimere un ringraziamento ai promotori di questa assemblea aperta che adottando questa iniziativa hanno esercitato quella che Certiage diceva la funzione dell'intellettuale cioè a dire quello di capire in anticipo quali sono le tensioni che esistono all'interno della società qual è quell'immaginario collettivo che ancora non emerge e portarlo ad emersione e per questo voglio ringraziare tutti gli intervenuti i quali fanno capire con la loro presenza che sono ben consapevoli dei pericoli che stiamo correndo e della necessità non derogabile di difendere la Costituzione in questo momento di grande cambiamento sia a livello nazionale sia a livello internazionale io sono uno studioso del diritto ho fatto il giudice posso dare ogni botte da quello che da ogni botte da il vino che ha voglio dire che mi ha spinto a venire qui soprattutto l'intervento del mio concittadino di Pomigliano d'Arco a proposito della forzata esecuzione da parte della Fiat di Marchionne della della giurisprudenza direi ormai che è sull'argomento e lui ha risposto con una minaccia ha detto bene io riassumo queste persone do luogo alla rappresentanza sindacale ma non solo voglio una legge ma vi dico che se la legge non è compatibile con le esigenze della Fiat io delocalizzo qui viene in evidenza l'impatto grosso che c'è tra due entità che possono identificarsi come il bene e come il male perché abbiamo da un lato lo strapotere della finanza internazionale che ha le sue regole che si oppone su tutto e che si sovrappone a tutto e dall'altro abbiamo il concetto della democrazia come diceva la carlassare abbiamo da un lato l'uomo che ha espressione e tutela negli regimi democratici dall'altro la sopraffazione della forza brutta del danaro e io da modesto studioso del diritto vorrei dire che in questo caso noi più che di fronte a una violazione della Costituzione ci troviamo di fronte ad una inattuazione della Costituzione e qui ha responsabilità purtroppo anche la Corte Costituzionale della quale ho fatto parte per nove anni perché noi abbiamo interpretato gli articoli 41 e 42 della Costituzione non come norme di ordine pubblico inderogabili ma in una formulazione che fece saltare dai banchi il professor Rodotà sulla sentenza 55 e 56 del 1968 come qualcosa che ha un fondamento nei diritti del proprietario e che non può andare oltre una certo limite di compressione si parlava di espropriazioni io ritengo che anche gli intellettuali anche gli studiosi di diritto anche la convenzione per i beni comuni di cui faccio parte e sono orgoglioso di farne parte sta studiando questo argomento deve mettere in prima linea questo discorso non riusciremo mai a battere la prevaricazione della finanza internazionale se non ergiamo la barriera che erge al riguardo la Costituzione con gli articoli 41 e 42 l'articolo 41 della Costituzione dice la libertà economica è libera l'iniziativa economica è libera ma non può essere in contrasto con l'utilità sociale la libertà la dignità e la sicurezza dell'uomo l'articolo 42 della Costituzione dice che la legge non la Repubblica la legge quindi la volontà del popolo che come la concede così la può togliere la proprietà privata la legge stabilisce i contenuti della proprietà privata determinando i modi di acquisto eccetera e al fine ha lo scopo ha lo scopo di conseguire la funzione sociale e come si fa a parlare di funzione sociale se si se si concede a un marchionne qualsiasi di lasciare di delocalizzare le imprese e portarle in altri in altri luoghi io credo che questa battaglia ho detto ognuno deve dare il contributo che può io potrei mi unisco a tutto l'entusiasmo vostro per la difenda della Costituzione ne sono un tenace assertore ma credo che vadano messi in primo piano questi due elementi da un lato lo strapotere finanziario che è da ricondurre a un mercato con regole come diceva Lutovac già vent'anni fa da un lato e dall'altro il valore della persona umana che non può subire queste cose concludo dicendo che secondo me in base agli articoli 41 e 42 della Costituzione è indispensabile una reinterpretazione costituzionalmente orientata del diritto di proprietà privata cosa che ha già fatto la Corte Costituzionale la Corte di Cassazione la Corte di Cassazione con tre sentenze riguardante le valli di pesca di Venezia credo che questo sia un punto essenziale e non sarei intervenuto a tediarvi fino all'ultimo minuto se non l'avessi ritenuto un tema di fondamentale importanza grazie Elisabetta Rubini Avvocato del Foro di Milano della Presidenza di Libertà e Giustizia Buonasera buongiorno io vorrei richiamare una nostra esperienza del passato di fronte a questo impegnativo progetto di cui oggi parliamo e su cui tante cose condivisibili sono state dette ed è la battaglia che abbiamo fatto e che Libertà e Giustizia in particolare nel Comitato per la Costituzione ha fatto nel 2006 ricordate tutti che noi abbiamo già respinto i cittadini italiani hanno già respinto con il referendum del 2006 un tentativo di stravolgere l'impianto della nostra Costituzione analogo a quello di fronte al quale ci troviamo oggi e i cittadini italiani allora l'avevano respinto a grande maggioranza come mai perché gli italiani si riconoscono nella Costituzione riconoscono nella Costituzione il fondamento della loro identità culturale e il fondamento della storia della storia che è all'origine della Repubblica la storia antifascista la storia della battaglia contro il nazifascismo la Costituzione nostra è una Costituzione antifascista è una Costituzione egualitaria progressista e solidale è stato detto da molti e tutti noi lo sappiamo oggi però di nuovo ci troviamo di fronte al tentativo di distorcere questa Costituzione in senso autoritario accentuando gli aspetti oligarchi che già connotano la Costituzione materiale cioè ciò che noi vediamo accadere davanti a noi tutti i giorni perché ci ritroviamo dopo pochi anni confrontati con un nuovo tentativo di riproporre ai cittadini italiani qualcosa che loro hanno già a grande maggioranza rifiutato perché in questi anni vi è stata un'opposizione troppo debole troppo incerta ci sono stati troppi cedimenti e troppe connivenze con la cultura illegalista e diversiva di Berlusconi troppi diritti non sono stati difesi non è stata difesa la dignità delle donne non è stata difesa la dignità degli immigrati dei lavoratori dei giovani è stata tollerata la sistematica diffamazione della magistratura è stata tollerata l'approvazione di leggi che miravano a scardinare il sistema della giustizia oggi questa battaglia è da rifare noi ci ritroviamo di fronte a un problema che avremmo voluto già aver superato io non so se da qui come diceva qualcuno prima di me possa o debba nascere un nuovo protagonista della scena politica che quindi si ponga obiettivi di definizione di una propria identità politica io credo invece che il vero obiettivo che noi ci poniamo oggi è di creare un movimento il più vasto possibile così come è stato nel 2006 che cerchi di raccogliere il massimo numero di cittadini e che cerchi di svelare le bugie e le manipolazioni della propaganda che è stata mobilitata e continuerà ad esserlo a sostegno delle riforme cosiddette riforme costituzionali volute dall'attuale governo io credo che bisogna trovare le parole per arrivare alla mente e al cuore di tutti e rendere possibile quello che Lorenza Carlassare definiva un risveglio delle coscienze ieri abbiamo letto su Repubblica una magnifica lettera di Sermonti un grande intellettuale italiano la lettera diceva la sua perorazione a Napolitano perché cerchi dalla sua autorevolissima posizione di porre argine alle degenerazioni alle quali noi assistiamo in queste settimane in questi mesi Sermonti diceva questo non è un paese per giovani io credo che noi siamo tutti qui perché vogliamo che l'Italia torni ad essere un paese per giovani e un paese in cui i giovani hanno un futuro e una prospettiva anche di felicità grazie credo che darò la parola brevemente ma non tanto a Stefano Rototà perché c'è qualcosa di nuovo semplicemente io appena letto la dichiarazione che ha fatto il presidente del consiglio credo a Cernobbio dicendo no a conservatorismi la costituzione va cambiata chi dice che la costituzione non deve essere toccata poi vuole che non si diminuisca il numero dei parlamentari o che venga mantenuto il bicameralismo paritario con tutto il rispetto la posizione di coloro dei quali si stanno battendo contro la manipolazione della costituzione in questo modo viene falsificata perché noi abbiamo detto un'altra cosa se ritenete per esempio che alcune modifiche della costituzione siano importanti e che hanno intorno a sé già un consenso diffuso e i due casi sono appunto quello del bicameralismo perfetto e quello della riduzione del numero dei parlamentari non è necessaria quella manipolazione che si sta cercando di introdurre anzi 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 voglio essere sincero se il governo avesse incardinato ho fatto il parlamentare per tanti anni una di queste due proposte alla camera e l'altra al senato avesse avviato questa procedura oggi ci troveremmo già molto avanti nel processo di modifica costituzionale su questi punti devo essere altrettanto sincero ecco poiché ho ascoltato evidentemente un letta più sincero e quando è stato intervistato nel repubblica delle idee a Firenze ha una domanda ha detto ma in realtà noi abbiamo bisogno di questa procedura più costrittiva perché dobbiamo battere al nostro interno coloro i quali per esempio non vogliono il cambiamento di ruolo del senato allora io credo che i conservatorismi sono all'interno di questa maggioranza per battere i conservatorismi la politica si ritiene debole perché non è in grado di far rispettare quello che è un punto di vista apparentemente condiviso al proprio interno e come è avvenuto molte volte in questi anni le incapacità o le impotenze della politica vengono addebitate alle istituzioni questa è una lunga storia e si manipolano le istituzioni per cercare di rimediare alle debolezze della politica questo è un modo che io credo debba essere fortemente respinto in questa sede dicendo che noi noi abbiamo da tempo usando un'espressione di un costituzionalista nostro amico che si chiama Alessandro Pizzorusso sostenuto la tesi della buona manutenzione costituzionale che è cosa assolutamente diversa dallo stravolgimento della costituzione e vorremmo e vorremmo che le nostre posizioni fossero rispettate dal Presidente del Consiglio Lorenza Carlassare ho poco da aggiungere però una piccola cosa la aggiungo siccome io ero in questa commissione governativa io che sono qua ci sono gli atti basta guardarli sul punto del bicameralismo e della riduzione del numero il ruolo del Senato cambiato non solo io ci sono gli atti che lo testimoniano ma devo dire tutti quanti eravamo d'accordo di qualunque idea politica fossimo dentro quindi qual è il pretesto che cercano per non farlo è al loro interno questo è perché i senatori non vogliono rinunciare al numero dei senatori che ci sono allora scusate Alfonso Colletta e Massimo Cervellini si prepara poi Massimo Torelli e poi Franco Rusto dunque buongiorno a tutti non avete sentito io vorrei essere brevissimo per non rubare il tempo prezioso agli altri ragion per cui ne sono scritte due cose e dopo l'ultima dichiarazione del signor Letta io queste cose le avevo scritte due ore fa mi sento ancora più conservatore di prima io me l'ho scritto che premettendo che mi definisco un rivoluzionario conservatore definizione che potrebbe sembrare uno simoro grazie vai avanti ma secondo me non lo è lo spiego subito e quanto riguarda il tentativo e spero proprio che rimanga tale della modifica dell'articolo 138 io non riesco a capire una cosa o forse voglio far finta di non capirla praticamente io vorrei fare sono venuto per fare una domanda al professore al professor Rodotà non sono venuto solo per quello sul palco sono venuto per fare una domanda al professor Rodotà io vorrei lei mi dovrebbe spiegare visto che tra l'altro è stato presidente dei DS non ricordo se per poco lei li correga dei PDS e giustamente giustamente secondo me si è allontanato volontariamente per cui chapeau per il volontario allontanamento mi rivolgo a lui in quanto avendo lei conosciuto i dirigenti della sinistra che io non riesco nemmeno a vedere più usando la lente di ingrandimento per non dire qualcosa di più vorrei sapere mi sto chiedendo tutti i santi giorni che cosa è successo al PD che cosa è pronta a votare compatto per la modifica dell'articolo 138 stravolgendo la costituzione italiana una delle più belle del mondo già non detta da me ma da tante persone più autorevoli di me sono più di sinistra come? no ma che c'è la costituzione non è di sinistra era una domanda retorica era una domanda retorica ma che si devono addornare ad essere dicendo però 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 silenzio per favore non interrompiamo perché veramente siamo i minuti finali forza finisco brevemente finisco brevemente ma perché non si rendono conto questi signori che stravolgendo cambiando l'articolo 138 qualsiasi Mussolini di turno può rendere questo paese peggio di una democratura almeno durante il fascismo sapevano i nostri padri i nostri nonni a cosa andavano incontro sapevano e sono andati sulle montagne con i fucili a fare i partigiani per cui io mi chiedo in questi giorni mi rivolgo ai padri costituenti che si stanno rivoltando nella tomba due per tutti Terracini e il presidente Sandro Pertini continuamente io mi ritengo un rivoluzionario conservatore voglio andare ancora oltre ancora precedentemente non al 48 ma al 1848 il periodo della Repubblica Romana dalla quale dalla quale discende l'attuale costituzione italiana ancora vigente ecco perché mi ritengo un rivoluzionario conservatore e questo lo deve sapere Letta mi onoro di essere un conservatore vi fa piacere aver sentito queste ultime notizie che ci ha dato il professore ora io so che il professore si sta spendendo tutta Italia è stato in migliaia migliaia di scuole e io mi onoro se vuole venire nella città dove io abito se vuole venire e rivenire da tanto tempo io l'ho proposto al mio movimento loro mi hanno subito hanno subito nicchiato perché hanno pensato che il professor Rodotà ha altri impegni bene e più importanti ma io penso e spero che possa onorarci chiudere sono finito finisco è finito il tempo in quale città lo vuoi? Siena Siena dove nonostante è successo quello che è successo non è cambiato ancora niente dalla fine appunto della seconda guerra avete capito tutti cosa non è successo continuate a non succedere con le ultime elezioni comunali grazie grazie Massimo Cervellini e poi Massimo Torelli brevemente per consentire a tanti e tanti di intervenire è evidente che insomma utilizzo sin dall'introduzione la splendida introduzione di Stefano Rodotà e quindi diciamo cerco di entrare un po' sulle questioni che erano non solo state poste ma che ci troveremo immediatamente nei prossimi giorni noi al Senato da domani appunto questo governo nell'atto di nascita aveva un obiettivo esplicito lo ha dichiarato e lo ha fatto anche con dichiarazioni tragotanti tronfi addirittura trasversali quello appunto di cambiare violentandola la Costituzione devo dire che anche le ultime osservazioni che venivano appunto stigmatizzate benissimo sempre da Stefano Rodotà adesso Pocanzi insomma ci riportano lì ci riportano al fatto che le vicende che sono state ricordate e beh ci dicono che tutta l'impalcatura di questo governo delle larche intese aveva quel perno e ha quel perno allora può sembrare un po' una contraddizione o forse un'esagerazione di ottimismo però io credo che il mese che ci separa sostanzialmente dalla non la voglio chiamare manifestazione deve essere come qualcuno che mi ha preceduto veramente un grande evento che dia il segno del nuovo inizio del 12 di ottobre beh questo tempo noi possiamo assolutamente utilizzarlo per fare nelle aule in Parlamento e nel Paese beh aprire veramente un percorso che abbia una prospettiva di cambiamento da quello che era il segno di questa legislatura e di questo governo non so se appunto mi baso su elementi probabilmente secondari non ancora espliciti però quello che anche avvenuto pochi giorni fa giovedì scorso proprio in aula al Senato dove poi da alcuni senatori del PD è stata stigmatizzata come ci siamo sbagliati ma io stavo lì c'ero non credo che si sono sbagliati l'argomento era il gioco d'azzardo l'avete letto eccetera dopodiché figuratemici rispetto le cose dette di essere in grado di mettere in coerenza parole affermazioni e comportamenti appunto di generosità e di unità indispensabile grazie Massimo Torelli e si prepara Franco Russo Massimo Salve a tutti vista l'ora e la stanchezza chiedo a Sandra a quattro minuti di fermarmi allora io vorrei prima di tutto devo dire che la relazione introduttiva mi ha colpito molto anche per il coraggio in cui è stato detto che quella cosa dei parlamentari sul tetto non è una cosa così scandalosa perché è importante capire che ci siamo nella situazione drammatica e vengano criminalizzate indicate delle azioni assolutamente consone alla gravità della situazione e devo dire che questo è importante io spero anche che nel nostro percorso si possa anche dire che la criminalizzazione che sta avvenendo su tutti quelli che si oppongano alla tav in Val di Susa quello che sta succedendo in questi giorni è veramente pesante dirlo nella maniera giusta nei toni che possiamo usare senza nei toni che possiamo usare è una maniera giusta e devo dire che quando il professore dotare ha ripreso la parola ho ritrovato ancora più senso dell'essere venuto qua e anche dello spirito di grande collaborazione di cui parlava Sandro Medici rispetto a tante falsità banalità che vengano detto avere uno spazio politico che abbia l'autorevolezza per replicare punto su punto come è stato fatto rispetto alle relazioni del premier è una cosa fondamentale perché c'è un rischio che corriamo il rischio che tutto sembra deciso che chiunque si opponga anche soltanto dicendo verità o ovvietà o cose che non è grave stare sul tetto una notte 12 parlamentari che tutta questa cosa venga tacciata nel fatto dell'estremismo della marginalità della pericolosità è evidente che questa è un'idea malata di democrazia di cui il conflitto è un'anima essenziale io questa mi sembra la cosa incredibile dappertutto viene detto questa cosa quindi io penso che oggi siamo in una situazione che si costruirà si costruirà io penso ognuno ha le sue speranze la libertà di sperare che vada molto avanti io penso che tutti dobbiamo tenerla stare nel fatto di ridare coraggio e dignità a chi si indigna per certe cose a chi non sopporta di più questo messaggio a rete unificato di falsità a dire che chi difende un diritto o si indigna è il vecchio è conservatore io penso che sarebbe già un bel punto da conseguire per ridare coraggio a tutti noi e piacere di fare le cose insieme su questo è evidente che c'è il dopo ma già come arriviamo al 12 come si organizzano le assemblee perché poi il problema che noi spesso alle riunioni ci diciamo faremo un monte di cose e poi si arriva a 10 giorni dalla data dice ma quante ne abbiamo fatte quindi il tempo poi ce lo mangiamo sempre poi allora il problema quindi di riuscire a organizzare discussioni distribuite non aspettare che qualcuno sempre non si sa sempre sono tipolenterosi si metta in mano a organizzare i pullman che si torni a casa e ci sia una esplodere di discussioni di partecipazione e che quindi questa cosa di farla riuscire da oggi è un impegno di tutti è un impegno di tutti non soltanto del comitato promotore nazionale ma che si torni e si comincia a organizzare le assemblee io penso che questo sia una cosa fondamentale poi nelle assemblee le speranze di tutti si sconteranno ma è normale io ho molte speranze anche oltre il 12 però non è questo il punto il punto è questo spazio politico in una situazione in cui un premier può anche fare le dichiarazioni che ha ripreso Rodotà è uno spazio politico per ridare agibilità a tutto questo mondo che si rifà alla democrazia all'animo a un senso di libertà anche a dire probabilmente a Mario Draghila che la cosa che ha detto prima del voto è la cosa più grave che si può dire chiunque vinca è indifferente perché c'è il pilota automatico questa per me è proprio la morte dell'attivarsi del nostro avoglio di partecipazione quindi io ringrazio i promotori fanno benissimo ci hanno portato qui io spero che già soltanto che abbiano la capacità di replicare alle accuse che ci verranno dette perché se cadrà la situazione il paese è in crisi e questi fanno una manifestazione ci verrà detto ma cosa vogliono fare la priorità è un'altra poi il resto dobbiamo organizzarlo tutti insieme nei territori sapendo che ci saranno speranze diverse che si confrontano buon lavoro a tutti e a tutti noi Franco Russo grazie presidente io ho sempre ammirato lo spirito civile e politico la passione di Stefano Rodotà e soprattutto devo dire ammiro e ho ammirato nella sua relazione stamattina anche lo spirito di verità con cui Stefano Rodotà dice le cose per esempio parlando della zattera e che non ci deve essere una zattera per i profughi quindi parla diciamo così alle nostre sconfitte ai nostri sentimenti anche io voglio seguire lo spirito di verità ovviamente è una mia verità dicendovi alcune cose che sono queste la prima noi veniamo solo da un ventennio berlusconiano noi veniamo da un ventennio berlusconiano e da un ventennio del centrosinistra noi veniamo solo da un progetto della P2 di riforma della nostra carta costituzionale sì la P2 ma anche da parte del PDS e del PD perché ricordiamoci che nel 93 ci fu la Iotti De Mita che nel 97 ci fu la commissione D'Alema e che oggi c'è un governo di larga intesa con una maggioranza che vuole la modifica della nostra carta costituzionale quindi PD insieme a Berlusconi quindi dire che noi dobbiamo uscire solo dal ventennio berlusconiano secondo me si deve affermare una parte di verità e non tutta la verità noi dobbiamo uscire da un ventennio che è dei Berlusconi e del centrosinistro la seconda questione io non voglio rubare il mestiere e il sapere dei giuristi che sono qui presenti però io vi ricordo che un grande giurista un realista scandinavo come Alf Ross ci ha spiegato appunto il paradosso delle riforme delle costituzionali e dice Ross il paradosso è questo a volte come nell'articolo 138 si vuole cambiare la regola che regola le regole quindi noi ci troviamo di fronte al fatto che si vuole mettere le mani all'articolo fondamentale della nostra carta costituzionale certo si dice sempre ci sono tante cose fondamentali all'articolo 1 all'articolo 3 no questo è fondamentale compagni e amici per questo motivo perché l'articolo 138 prescrive la rigidità della nostra carta costituzionale e la rigidità significa che il Parlamento non è sopra la Costituzione ma il Parlamento è sotto la Costituzione e oggi invece il Parlamento si vuole riappropriare appunto attraverso una procedura speciale della possibilità di modificare le parti fondamentali della nostra carta costituzionale che sono ottenute nella seconda parte della nostra Costituzione e l'altro punto sempre per dire non la mezza verità ma la verità e voi leggetevi i risultati della commissione dei saggi messi su da Napolitano è vero oggi il Parlamento si accinge a votare una cosa mostruosa che è appunto il comitato parlamentare ma leggetevi i risultati della commissione messa su da Napolitano dice che bisogna mettere su una commissione redigente mista di parlamentari e non parlamentari da formalizzare con legge costituzionale questo è un testo uscito dal Quirinale nel senso che Napolitano l'ha presa e l'ha mandata al Parlamento ora noi dobbiamo dirci la verità e cioè dire che se noi vogliamo combattere una battaglia di difesa e di attuazione della nostra carta costituzionale abbiamo purtroppo anche da polemizzare con tutto il rispetto anche con il Presidente della Repubblica che non è più un risolutore delle crisi ma è semplicemente un reggitore dello Stato e questo lo diceva e questo lo diceva un grande costituzionalista che è esposito e c'è a dire che il Presidente della Repubblica deve risolvere le crisi non reggere lo Stato Napolitano invece è diventato il lord protettore del nostro Stato la terza questione mi avvia le conclusioni è questo tutti hanno richiamato l'articolo 81 della nostra carta costituzionale due punti su questo uno la motiva dell'articolo 81 della nostra carta costituzionale è stata imposta dal fiscal compact cioè da un trattato internazionale trattato internazionale che appunto ha detto ormai le leggi per quanto riguarda le politiche di bilancio ed è un trattato non fatto secondo il metodo comunitario è fatto attraverso un trattato fuori dal metodo comunitario quindi noi ci troviamo con un governo che era quello era quello Monti quindi il governo delle larghe intese non precedente a quello di Letta un governo PD Berlusconi il quale ha accettato il fiscal compact il quale ha accettato di fare in poche battute non solo la modifica dell'articolo 81 ma anche le leggi che vengono dietro all'articolo 81 sono state anche già votate le leggi di attuazione dell'articolo 81 in un batter in un batter in un batter d'occhio e a proposito di Europa ci dobbiamo ricordare che l'Europa oggi impone attraverso il semestre europeo accettato dal PD e accettato da Berlusconi ovviamente che si modifino le procedure di stesura del bilancio non è più solo exposto il controllo del bilancio oggi con il Tupac lo diceva qualcuno prima bisogna che mandiamo a Bruxelles prima il progetto di patto di stabilità e poi il Parlamento sulla base di quel che decide Bruxelles potrà decidere le politiche pubbliche noi siamo espropriati il Parlamento ha espropriato la rappresentanza espropriata di quella che è stata la conquista della rivoluzione borghese c'è a dire che le politiche di bilancio sono appannate dalla rappresentanza oggi sono appallate dei governi della BCE della Commissione e della Commissione europea su questo noi dobbiamo appunto dire delle cose vorrei semplicemente sponsorizzare quel che ha detto che è stato detto sulla legge elettorale e vorrei terminare dicendo due cose uno come membro dell'Associazione per la Demolazione Costituzionale noi faremo parte di questo spazio pubblico via maestra per una nuova politica costituzionale che non è un nuovo partito che non è un nuovo partito è uno spazio pubblico di movimenti che appunto vogliono in base all'attuazione alla difesa dell'attuazione della carta costituzionale combattere appunto un ventennio che ha messo i piedi sulla testa della nostra carta costituzionale ha messo i piedi sulla testa dei diritti politici e sociali e l'ultimo punto è questo purtroppo ognuno di noi non vivendo solo più in un solo partito ha molte giacchette o molti cappelli io faccio parte anche dell'Associazione Politica Rossa e mi sono ben felice di dire che oggi ad ottobre ci sarà questa manifestazione per la difesa l'attuazione della nostra carta costituzionale vorrei ricordarvi che ad ottobre però ci sono altre scadenze di lotta già indette una l'ha ricordata Corrado Oddi e su cui bisognerà appunto prendere posizione cioè a dire sulla base del seminario del Monta Amiata sono state indette 100 iniziative a difesa dei beni comuni in Italia il 12 di ottobre e poi però il 12 di ottobre in quella settimana che comincia il 12 di ottobre ci sarà il 18 uno sciopero generale indetto dai sindacati di base e il 19 una mobilitazione da parte delle movimenti territoriali notab non muos lotta per la casa una grande manifestazione a Roma quindi vediamo di fare una settimana di mobilitazione di attivizzazione come diceva Flores ad ottobre per chiedere anche e ho terminato davvero qui essendoci qui Landini con cui non si può che complimentare per la aspra dura lotta che la FIOMA ha condotto contro la FIAT vincendo in corte costituzionale e così la FIOMA è potuta rientrare con i suoi rappresentanti dentro la FIAT però vorrei ricordarvi una cosa che la democrazia sindacale non finisce ai cancelli alle porte della FIOMA noi dobbiamo fare in modo di avere una legge sulla rappresentanza sindacale che intesti la democrazia sindacale ai lavoratori non ai sindacati non diciamo così ai funzionari i lavoratori sono i diretti portatori di questa istanza e dobbiamo ricordarci che invece l'accordo del 31 maggio di quest'anno ha dato nuovamente come se fossimo negli anni 60 e 70 un monopolio della rappresentanza o pretende di avere quest'accordo siglato da CGL Cisleville con la Confindustria di rimettere in piedi un monopolio della rappresentanza a prescindere dalle decisioni dei lavoratori ebbene noi dobbiamo dire che democrazia politica e democrazia del lavoro vanno tutt'uni per questo anche il problema dell'accordo del 31 maggio dobbiamo sempre avercelo davanti vi ringrazio per l'attenzione sentite qua ci sono ancora 6 o 7 iscritti io vi leggo i nomi se volete e chiedo a qualcuno di rinunciare chi vuole se no dovrò tagliare io Alberto Bursio Gianfranco Mascia Giovanni Lamagna Vittorio Agnoletto Alfonso Gianni Marco Bersani e Cinzia Bottene io mi rimetto sono tutti difficili lo so però se no non parla lui cioè tre minuti va bene forza allora Bursio Bursio scusami Burgio Alberto Burgio mi dispiace ma stiamo nei tempi però stiamo nei tempi diciamo che sarò particolarmente breve ringrazio molto per questa opportunità e sì siamo siamo tutti molto riconoscenti ai promotori di questa iniziativa e anche vorrei dire carichi di speranza carichi di speranza che quest'oggi sia finalmente davvero un nuovo inizio un nuovo inizio che ci liberi da quella che io credo dobbiamo considerare una maledizione che fin qui ha pesato sulla testa della sinistra italiana guardate quarant'anni fa si parlava del caso italiano molti di noi ce lo ricordiamo e quel caso italiano significava alti salari e significava un movimento operaio in grado di dettare l'agenda alla politica e di trasformare la società in tutte le sue articolazioni bene oggi anche oggi l'Italia è un caso ma è un caso rovesciato perché noi siamo l'unico paese in Europa senza una sinistra in grado di incidere sulla scena politica e questo dato ci motiva e questo dato va rovesciato guardate perché è così io credo che la domanda contenga la risposta perché a differenza che in Germania che in Spagna che in Francia che in Grecia che in Portogallo qui la sinistra è polverizzata è frammentata e la questione allora è la questione dell'unità se poi ci chiediamo perché l'unità non c'è allora io obbedisco al nostro amico e maestro Stefano Rodotà che stamattina ci invitavano a essere diplomatici ebbene Stefano io penso che una responsabilità incomba anche sui gruppi dirigenti della sinistra italiana e in particolare della sinistra politica italiana perché io credo che non guasterebbe un qualche esercizio di autocritica il liberismo non c'è solo in Italia eppure solo in Italia noi siamo messi così e a chi dico solo questo a chi ci dice ama parlare di unità indipendentemente dai contenuti che senso ha io dico che questa è un'obiezione assolutamente infondata perché i contenuti ci sono sono quelli di cui abbiamo parlato oggi che non sono affatto generici e che ci vedono tutti tutto il popolo della sinistra che è senza rappresentanza e senza voce tutti concordi un buon lavoro sicuro stabile remunerato rispettoso della dignità di tutti la democrazia sindacale la pace il welfare il bene comune una istruzione pubblica di tutti i gradi fino all'università come diritto per tutti chi è che non è d'accordo su questo allora se noi non riusciamo a far diventare questa agenda politica come 40 anni fa un motore di trasformazione cominciamo a dire che è la politica che non funziona la politica della sinistra per come sin qui è organizzata vi ringrazio ancora Franco Mascia si faccio partire anche io il cronometro così cerchiamo di stare nei tempi allora Paolo 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 Parlava dell'uso delle parole e allora ascoltando un po' tutto mi veniva in mente una canzone di Rega Bue che diceva che dice ho perso le parole questo può essere un vantaggio forse perché così sono più stringato però in realtà le parole le abbiamo perse tutti tutti quanti io mi rendo conto che girando e parlando con i cittadini sembra che ci abbiano tolto il diritto di parola si manifesta ci si agita ci si indigna però iniziative come questa grande assemblea aperta ce ne sono state poco e noi vogliamo ringraziare coloro che lo hanno convocata perché è importante discutere non parlarci addosso ma dialogare per poter allargare il fronte questa assemblea ricordiamolo ha alle spalle 500.000 firme del fatto quotidiano di cittadini che hanno firmato e che hanno chiesto che ci fosse una difesa della Costituzione un percorso quello che ci porterà all'assemblea alla grande manifestazione del 12 ottobre che deve avere dei punti fermi a partire dall'articolo 1 e che deve percorrere tutta la Costituzione quindi il suggerimento che faccio io è che si discuta in tutte le sedi e che la manifestazione del 12 attraversi tutta la nostra bene della Costituzione a partire dall'articolo 1 che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro il lavoro dov'è qualcuno ha detto e sui tentativi di colpire la Costituzione che sono stati respinti grazie all'azione forte per esempio della FIOM contro la FIAT rispetto all'articolo 2 all'articolo 3 e all'articolo 39 e poi non si può tralasciare l'articolo 21 sulla libertà di stampa io mi chiedo quale libertà di stampa ci sia in un paese in cui è consentito a un pregiudicato di mandare una videocassetta e che questa videocassetta venga mandata anche dai canali pubblici della RAI e chiedo al direttore generale del RAI che ha detto in una dichiarazione superpubblica .it eh beh però l'arrivo della videocassetta per i direttori dei giornali è una notizia bene caro gubitosi vuoi una notizia? 100.000 persone hanno firmato per non mandare la videocassetta in onda questa è la notizia e voi non ne state parlando nessuno ne sta parlando come nessuno parla delle 500.000 firme a salvaguardia della Costituzione questa è la notizia questo è quello che dovremmo mandare in onda nei TC e ovviamente una manifestazione non può passare dall'articolo 48 della Costituzione che dice che spiega i requisiti le modalità per l'elettorato attivo perché in Italia un bidello non può partecipare a un concorso se è pregiudicato e invece abbiamo un pregiudicato in Parlamento che non vuole decadere e che sta facendo i suoi porci interessi da vent'anni a questa parte e ovviamente passa dall'articolo 148 usato come Grimaldello perché se il Movimento 5 Stelle non ha trovato sponde o pochissime sponde in Parlamento è a causa di una legge elettorale che secondo me è anticostituzionale che è il Porcellum che non ha consentito a molti di noi di avere una rappresentanza in Parlamento ed è quindi il momento di svegliarsi per questo attraversando questa nostra bella Costituzione formale e materiale il 12 ottobre può essere un momento di unione e di grande fronte democratico per accelerare i processi che in tutti questi anni hanno portato a incrociarsi i percorsi e le lotte dei lavoratori dei precari delle donne dei movimenti e degli ecologisti perché come dice in chiusura della sua canzone Liga Bue dobbiamo credere dobbiamo crederci un po' di più e davvero solo così riusciremo a cambiare quest'Italia grazie allora Giovanni Lamagna Giovanni Lamagna grazie Vittorio Agnoletto si prepara Alfonso Gianni se viene già qua così sono velocissimo ho solo una grossa preoccupazione ed è quella che volevo socializzare un timore che è stato accennato e che io sento molto forte il rischio è che questa nostra battaglia venga definita dagli avversari che sono tantissimi come una battaglia in qualche modo elitaria e che non sia sentita proprio propria da quelle massa massa di gente che oggi è quella che soffre di più della crisi sociale che non trova lavoro che viene espulsa noi dobbiamo riuscire a legare la battaglia per la difesa della Costituzione e per la democrazia alla battaglia sociale sarà che viene dalla mia esperienza io faccio il medico adesso all'IMS con i disabili ogni mattina c'è una disperazione pianti lacrime per taglio di assegno di invalidità di assegno di accompagnamento e via dicendo a quella gente che è quella che soffre di più della crisi o io gli so legare i temi di cui discutiamo oggi alla loro condizione sociale disperata oppure non mi individuano come interlocutore cioè ritengo che questa nostra battaglia debba parlare a tutti ma avere anche dei precisi riferimenti sociali e io oserei dire anche di classe questa era la cosa che volevo dire la preoccupazione enorme che ho è semplicemente ricordare che 12 anni fa la Costituzione l'hanno sospesa oggi cercano di modificarla guardate che sono le due facce della stessa battaglia perché nella modifica della Costituzione c'è anche la modifica del rapporto tra la politica e gli apparati di repressione dobbiamo parlare anche di questo perché io credo che la modifica della Costituzione la sperimenteremo nelle prossime settimane nelle piazze dalla Valsusa alla Sicilia ed è una cosa che riguarda anche noi grazie Marco Bersani ha rinunciato no? Bersani ecco sì ciao a tutti e tutti so che siamo al rush finale quindi devo dire cose interessanti se no mi cacciate molto velocemente qual è lo stato della democrazia io ve lo dico attraverso due cose eh sì ma proviamo a capirlo un po' meglio a giugno 2011 26 milioni di persone hanno votato il referendum per l'acqua due mesi dopo l'Unione Europea ha mandato una lettera all'allora governo Berlusconi con 39 ordini il numero 25 diceva cosa intende fare questo governo sulla privatizzazione degli acquedotti malgrado l'esito del voto referendario ok certo nel dicembre 2011 la Deutsche Bank ha mandato un rapporto all'Unione Europea dove scriveva lei cosa dovevano fare Francia, Italia, Portogallo Spagna e Grecia per uscire dalla crisi del debito pubblico e dentro il pezzo che riguarda l'Italia che ovviamente dice privatizzazione di tutto che è esattamente il programma letta per la prossima legge di stabilità si diceva certo per i servizi pubblici locali c'è un problema che c'è stato un referendum ed è un ostacolo che andrà superato allora qual è il significato profondo della vittoria referendaria perché noi siamo abituati a pensare che i referendum si dimenticano abbiamo vinto ma poi li hanno dimenticati no questo ce l'hanno talmente bene in testa che l'hanno attaccato continuamente che viene citato in tutti i documenti della Troica perché? perché il significato profondo di quel referendum è stato che per la prima volta l'intera società italiana ha sconfitto le politiche liberiste e ha detto che non credeva più che privato è bello e che il mercato è l'unico regolatore sociale anzi ha detto esistono dei beni che in quanto comuni in quanto essenziali alla vita e universali non solo devono essere sottratti alla finanza ma devono essere gestiti in maniera partecipativa dalle comunità locali come ci hanno risposto loro? loro ci hanno detto va bene potete pensare che privato non è più bello basta che lo fate a casa vostra da soli prima di dormire fuori deve essere chiaro a tutti che privato è obbligatorio è ineluttabile la crisi del debito pubblico serve a questo Milton Friedman diceva che lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile quello che è socialmente inaccettabile noi gli abbiamo detto che privato non è più bello loro ci hanno detto va bene non abbiamo più il vostro consenso ma basta che abbiamo la vostra rassegnazione privato è obbligatorio è ineluttabile allora la battaglia per la Costituzione deve innervarsi di queste cose perché noi siamo di fronte a quello che nei romanzi dell'ottocento era quasi una macchietta il predone che diceva la borsa o la vita al viandante noi siamo veramente in questa situazione con la borsa con la b maiuscola o la borsa o la vita e la Costituzione deve innervarsi dentro questa cosa dentro la Costituzione un giorno quando non saremo più un'oligarchia noi dovremo fare non i conservatori e i progressisti ma i buoni custodi quelli che fanno una buona manutenzione e ci metteremo dentro i beni comuni ci dovremmo mettere dentro il controllo dei capitali finanziari perché guardate che la storia euro non euro noi possiamo stampare le monete con sopra la faccia di Che Guevara se non si controllano i capitali finanziari non si modifica nulla questo dobbiamo avercelo chiaro allora dentro la Costituzione ci dovranno andare i beni comuni ci dovrà andare la riappropriazione della ricchezza sociale ma questo paese ci sono 230 miliardi di risparmio postale che affidiamo alla Cassa Depositi e Prestiti sono soldi nostri e vengono usati per finanziare le grandi opere le grandi privatizzazioni le grandi fusioni allora dentro la manutenzione buona della Costituzione dovremmo inserire la socializzazione del sistema bancario la riappropriazione della ricchezza sociale allora oggi parte un percorso io su questo vorrei essere diciamo chiudo in parte problematico è una bella assemblea ne abbiamo fatte altre ma è una bella assemblea però facciamo attenzione a una cosa perché troppi dicono non è un partito quando si dice tante volte non è è che la tentazione è io lo so che dentro di molti molti di quelli che sono qui alberga una cosa che non si può dire speriamo che sia la volta buona facciamo una grande manifestazione poi qualcuno fa una lista elettorale finalmente decente e cazzo abbiamo risolto il problema noi dobbiamo stare attenti a questa tentazione che tutti abbiamo non perché la rappresentanza non sia un problema da affrontare ma perché uno degli elementi che il liberismo ha iniettato dentro tutti noi è l'attenzione al prodotto e mai al processo e tutte le volte che noi facciamo l'attenzione al prodotto ci dimentichiamo il processo e arriviamo a produrre le tragedie le farse e il disastro della rappresentanza in questo paese allora da una parte la Costituzione deve parlare alla società e non solo al Parlamento da una parte la Costituzione deve parlare al futuro e non solo al passato da una parte alla nostra fame di rappresentanza noi dobbiamo rispondere proponendo partecipazione perché la via maestra deve avere camminatori consapevoli che tutti quanti decidono i processi e i percorsi allora facciamo la manifestazione nazionale che sia grande però in questo paese non c'è un vuoto politico in questo paese il vuoto vero è che manca una coalizione politica sociale di tutto quello che in questo paese non è pacificato e guarda oltre ma per costruire questa occorre che ci mettiamo d'accordo collettivamente su come si costruiscono dei processi inclusivi in cui tutti siano parte perché altrimenti ricadiamo negli errori precedenti allora a me interessa che facciamo una grande manifestazione e che magari ci coordiniamo anche con i movimenti per i beni comuni che avevano già indetto per il 12 ottobre centinaia iniziative in cento città sulla questione della riappropriazione sociale dei beni comuni ma mi interessa sapere cosa facciamo il giorno dopo perché io non vorrei che ogni volta costruiamo questa grande diciamo emersione e il giorno dopo ognuno torna alla sua solitudine competitiva o se vogliamo cambiare il paese dobbiamo anche dirci cosa facciamo il giorno dopo grazie vorrei tranquillizzarti difficile parlare per ultima e dopo soprattutto dopo il discorso di Marco io sono piccola ma sono piccola vabbè sto in punta dei piedi allora voi avete ricevuto tantissimi tantissimi ringraziamenti ai quali non posso che associarmi però immediatamente mi viene anche da dirvi che non vi invidio non vi invidio non vi invidio assolutamente perché vi siete assunti una responsabilità enorme e permettetemi di spiegarvi il mio pensiero come il mio costume fare in totale sincerità e senza alcun tipo di diplomazia credo che qua dentro se andiamo ad analizzare il modello di società che noi vogliamo la sostanza delle cose in cui crediamo al 95% siamo d'accordo su tutto siamo tutti d'accordo nella difesa della costituzione del lavoro dei beni comuni della pace io sono di Vicenza il movimento Nord al Molin per 7 anni per cui figuratevi tra l'altro adesso si parla di Siria Vicenza è sede di Africom quella struttura dell'esercito americano che controllerà e controlla perché è già attiva Africa e Medio Oriente quindi Vicenza è il punto nevralgico anche della Siria prossimamente siamo tutti d'accordo nel dire che i diritti sono sempre più cancellati e permettetemi un inciso ieri sono state due ore in piazza Santissimi Apostoli mi sono presa un'incazzata enorme perché a un certo punto ha parlato una signora e ha detto ma ci stanno prendendo in giro no? perché col problema degli esodati gli esodati non esistono più allora io volevo andare a questa signora prenderla per la giacchetta e dire se non sai di cosa parli statene zitta vieni a casa mia mio marito è un esodato te lo spiego te lo spiego anche con tutti i colleghi con tutti i comitati eccetera eccetera quindi su questo dicevo siamo tutti d'accordo dov'è che non siamo d'accordo? noi abbiamo l'obiettivo di mobilitare la gente cosa serve per mobilitare la gente? secondo me come primi due elementi serve un linguaggio nuovo e anche un'immagine che sia nuova serve avere credibilità la credibilità è una cosa preziosa quando si perde non si riacquista più e serve non occorre l'autoreferenzialità non occorre non deve assolutamente non esserci nessun tipo di interesse di parte o personale perché altrimenti si parte già col piede sbagliato e questo è quello che è successo al tempo del sinistro arcobaleno e quello che è successo anche a febbraio di quest'anno vi ho detto un ruolo scomodo io vi dico anche che oggi qui ho visto delle presenze inquietanti presenze che io ritengo inquietanti che mi fanno pensare che in qualche maniera ci sia la possibilità spero che non si concretizzi ma c'è la possibilità che si ricadano gli stessi errori io ho molta fiducia in voi quindi spero proprio non sia così vi dicevo gli errori commessi che portano poi a quella di disillusione al distacco dalla politica che portano un voto e che favorisce esattamente la parte contraria a noi allora vi dico io sono molto critica nei confronti dei partiti ma non è che la mia critica perché provengo da un movimento assolva i movimenti anche i movimenti hanno chiaroscuri e sono assolutamente da criticare in certi punti cosa oggi io sono venuta e mi hanno anche proposto ho detto guardate questa è l'ultima giornata che io metto a disposizione e detto da me che al tempo era stata definita per anni da tutti i giornali la passionaria dei nodal molini o la casalinga prestata alla politica con questa macchietta maschilista credo che vedi anche l'indice di quanto la gente normale non regge più certe cose io ho partecipato a tante assemblee bellissime grandissimi discorsi ci siamo molto beati della giornata trascorsa fra di noi meno in altri momenti quando c'erano pure le clacche in sala funzionali a qualcuno però poi non si conclude assolutamente nulla ecco io chiudo dicendo guardate molti di noi si sono ritrovati qualche tempo fa anche a Genova per esempio Maurizio Cera i funerali di Don Gallo e Lorenzo Carlassarre richiamava all'inizio il bisogno di continuare a sperare bene Don Gallo aveva come motto osare la speranza io credo che questa sia l'ultima possibilità che noi abbiamo per consentire alle persone e al popolo di poter continuare ad osare la speranza però per farlo dobbiamo avere coraggio ma dobbiamo anche avere trasparenza coerenza e soprattutto altruismo non pensare a noi stessi ma a quello che è il bene della nazione dobbiamo parlare alla gente oggi ho sentito anche dei mea culpa benissimo a me però le parole piacciono poco io preferisco i fatti allora un fatto per esempio per me è così vuol dire che si può lavorare per un progetto in cui si crede senza esserne protagonisti questo è un fatto questo aiuta molto perché dei mea culpa a parole non me ne faccio nulla o si capisce questo si capisce che la società è cambiata il che non vuol dire che noi dobbiamo cambiare le nostre idee perché le mie idee sono talmente radicate dentro di me che le ho difese anche prendendomi le denunce io le mie idee le difenderò fino alla fine però vuol dire che la società è cambiata e altrimenti o capiamo questo o facciamo come dinosauri ci condanniamo all'estinzione e non parlo per età ma per mentalità io ho 57 anni ma se permettete non mi sento un dinosauro voglio continuare a dosare la speranza e proprio per questo è un appello che vi faccio mantenete la barra dritta perché se lo saprete fare allora da qui partirà un percorso innovativo e il 12 probabilmente sicuramente anzi le piazze saranno piene grazie e buon lavoro grazie grazie allora no no volevo solo prima di dare la parola a Maurizio dirvi che abbiamo questi testi di Marco Revelli della Rita Borsellino che è con noi e di Maria Luisa Boccia e Bia Sarasini tutte queste cose insieme alle informazioni sia il manifesto di Zagrebelsky e dei cinque firmatari sia tutte le informazioni sulla manifestazione su come proseguiamo in questi giorni saranno sui siti sicuramente della FIOM di Libertà e Giustizia e di Micromega da domani insomma da domani voglio ringraziare anche l'assessore alla cultura della regione toscana Cristina Scaletti che è qua che ci ha offerto l'aiuto per eventuali manifestazioni prima del 12 quelle che hai detto locali poi probabilmente ne avremo delle altre e adesso tocca a lui chiudere Stefano Rodotà ha illustrato con molta precisione i contenuti le ragioni che ci hanno portato a firmare questo manifesto e a convocare questa assemblea io le cose che vorrei dire alcune le ho ascoltate quindi dirò anche qualcosa ma vorrei che fosse chiaro ad ognuno di noi che stiamo provando a fare una cosa che siccome molti si chiedono come va a finire io dico che se uno vuole sapere come va già a finire la cosa è meglio che non la inizi neanche perché ci sono dei processi che non si decidono a tavolino se vogliono essere processi che provano a cambiare la situazione e da un certo punto di vista che noi abbiamo bisogno tutti insieme ma con una disponibilità e una responsabilità di ognuno di noi a farsi carico di essere parte di un processo nuovo che vogliamo aprire e che quindi ha bisogno anche di un grande senso di responsabilità dico questo e vorrei chiarire due questioni quando noi individualmente certo per le responsabilità che abbiamo per quello che abbiamo fatto lo diceva Stefano io parlo ad esempio per la FIOM noi abbiamo fatto una manifestazione il 18 di maggio a Roma dove abbiamo invitato tanti soggetti e per la prima volta ci siamo posti il problema di come la lotta per la difesa dei diritti per la difesa per il superamento era necessario che si collegasse a una lotta per la difesa e l'applicazione della Costituzione in questo modo almeno per quello che riguardava noi rendendoci conto fatemela dire così che da soli non ce la facevamo a raggiungere gli obiettivi di difesa dei lavoratori e che quindi necessariamente continuando a fare il nostro mestiere e non chiedendo a nessuno di sostituirsi a noi né tanto a meno noi avere in mente di cambiare mestiere era però necessario che si ricostruisse un terreno che potesse unificare tutto ciò che in questi anni era stato diviso e questo terreno per noi era la Costituzione c'è stata l'iniziativa fatta il 2 di giugno che proprio su questo terreno ha messo assieme un centinaio di associazioni e di vari soggetti allora noi ci siamo posti il problema coinvolgendo altre persone Don Luigi Ciotti per la lotta che da anni sta facendo ad esempio su un terreno decisivo che è quello della legalità come punto di ricostruzione di un'azione abbiamo pensato non solo perché è una persona competente ma anche per la scelta che ha fatto di essere sì parte di una commissione ma di assumersi anche la responsabilità di uscire da quella commissione nel momento che ha visto che forse quella discussione non andava nella direzione di applicare la Costituzione nel nostro paese e quando insieme ci siamo posti questo tema la decisione di proporre un'assemblea aperta qui c'è proprio un punto lo dico anche se posso suscitare qualche malumore ma vorrei che questo tema fosse chiaro visto che è stato chiesto a noi che abbiamo promosso di essere chiari e garanti del processo noi abbiamo fatto un'assemblea aperta perché il nostro problema non è escludere qualcuno vorrei che fosse chiaro questo punto vorrei che questo elemento fosse chiaro per noi c'è un punto di discriminazione che è la difesa e l'applicazione della Costituzione e ad ognuno chiediamo non di dirci semplicemente se d'accordo ma di fare nel posto in cui è le cose che si debbono fare per applicare la Costituzione questo per noi è il punto di discriminazione e da questo punto di vista lo dico perché siamo contentissimi non pensavamo quando l'abbiamo convocata di avere così tanta partecipazione addirittura di dover porci il problema di ampliare le sale però anche qui con onestà tra di noi noi non possiamo pensare perché oggi è venuta bene che abbiamo risolto i nostri problemi io permetto di dire noi tutti a partire da noi cinque ma anche da voi abbiamo il problema di parlare con tutti quelli che qui oggi non sono venuti e lo dico in modo preciso come qui è stato proposto che l'applicare la Costituzione vuol dire ad esempio dare dei diritti ai migranti che non ce li hanno noi non possiamo sostituirsi ai migranti noi abbiamo bisogno che i migranti siano con noi insieme a noi così come se faccio una lotta contro la precarietà non la faccio io a nome suo ho bisogno che i precari i giovani siano qui insieme a noi e noi ci dobbiamo porre questo problema e lo dico per correttezza fatemi anche rispetto alle forze politiche noi abbiamo fatto una scelta di rivolgere assemblee aperte di rivolgerci innanzitutto alle associazioni ai movimenti poi aperte alle forze politiche a tutte lo dico perché parto da una considerazione poi ognuno ha le sue idee però mi permetto di fare questa piccola considerazione che di sicuro noi siamo in presenza di un governo dove non c'è un italiano che ha votato perché quello fosse il governo ci siamo? non è così? non è questo il punto? non ce n'è uno le scelte che sono state fatte non sono di chi ha votato è di chi ha preso quei voti lì poi avrà il problema come risponde a chi l'ha votato ma allora il nostro problema proprio se questo è il tema noi insisto nel preparare la manifestazione del 12 e nelle iniziative che abbiamo in mente di proporre nelle città perché questa discussione che abbiamo aperto qui viva nelle città nelle scuole nei luoghi di lavoro che sia un elemento che si allarga insisto non dobbiamo escludere nessuno poi se c'è qualcuno che si vuole escludere perché non è d'accordo faccia tranquillamente perché qui il punto è se si è d'accordo o no e come si affronta sostanzialmente questo tema e insisto non dobbiamo escludere nessuno e lo dico anche con altrettanta franchezza mi sono consultato anche con Stefano come firmatario in modo da poter dire una cosa precisa anche qui senza polemica ma vorrei essere chiaro fin dall'inizio se uno pensa che noi abbiamo firmato questo manifesto e abbiamo fatto questa assemblea perché il nostro obiettivo è ricostruire la sinistra glielo dico prima non vorrei dare illusioni a nessuno ma non è questo per noi il punto dell'obiettivo della manifestazione che abbiamo messo in piedi mi permetto di dire è qualcosa di più l'ambizione perché il punto è questo per ridare anche un senso alle parole e tornare a rimettere al centro il cambiamento della Costituzione come elemento di cambiamento perché mi permetto di dire noi siamo di fronte al fatto e trovo che questo la politica dovrebbe discutere che io trovo un po' assurdo che la discussione sia quando ci sono le elezioni che si mettono a discutere di chi ha vinto e non discutono del fatto che ormai la maggioranza degli italiani non va a votare perché questo è il punto allora innanzitutto noi abbiamo la necessità di ridare voce a quelli che non vanno a votare perché non gli frega nulla ma perché non hanno più nessun livello di rappresentanza in cui potersi riconoscere non sentono i loro problemi come problemi che sono oggetto della discussione che deve essere messa al centro allora lo dico da questo punto di vista sempre con la onestà che ci deve essere e col fatto che proprio perché non escludiamo nessuno il processo che siamo in grado di aprire e il risultato che questo può produrre è legato al modo con cui ripartiamo dai contenuti per affermare un elemento di cambiamento io lo dico così mi si dice che ci sono delle dichiarazioni del presidente del consiglio che dice che questa sarebbe un'assemblea di conservatori allora io mi permetto di dire che se lui pensa di offenderci quando dice che vogliamo conservare la costituzione è il più bel complimento diciamo così che ci poteva fare però però io sono l'ho sentito dire molte volte da Gustavo e sfrutto questa sua cosa per tornare a ridare un senso alle parole ci siamo perché ormai la stessa parola in quel paese qui ha cambiato di significato ci sono delle parole che non vuol dire nulla no? dobbiamo essere innovativi e cosa vuol dire? se sei innovativo che cosa fai per essere innovativo? tu la costituzione la applichi o non la applichi il diritto allo studio lo garantisci o non lo garantisci il diritto alla salute lo garantisci o non lo garantisci il diritto al lavoro lo garantisci o non lo garantisci gli spazi di democrazia li allarghi o non li allarghi e mi permetto di dire sì questa è un'ambizione noi non abbiamo lanciato questo appello e proposto una manifestazione l'apertura di una discussione chiamiamola così di massa nel paese con tutte le persone che sono interessate per lasciare le cose come stanno perché permetto di dire noi vogliamo partire dalla costituzione ma proprio per cambiare questo paese questo è il punto di fondo quando nel documento c'è scritto che la difesa della costituzione è innanzitutto la promozione di un'idea di società noi riponiamo il problema che oggi ciò che è avvenuto non solo è in contrasto in molti casi con i principi della costituzione ma siamo di fronte a un secco peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone questo è l'elemento è un aumento delle diseguaglianze che non ha precedenti è uno spostamento della ricchezza in mano a pochi che non ha precedenti allora certo per noi questi sono processi politici che attraverso la partecipazione chiedono la costruzione di un cambiamento e in questo senso chiedono al Parlamento al governo alle forze sociali e politiche di misurarsi fino in fondo con queste questioni e con questo tipo di elemento e lo dico questo proprio perché il tema che poniamo è un tema che vuole produrre un percorso di partecipazione diverso fatemela dire così e abbiamo anche ragionato su questo terreno oggi quali sono i luoghi in cui le persone possono appunto partecipare e decidere non solo siamo in presenza di una legge elettorale che come noto permette ai parlamentari di non rispondere mai a nessuno perché non c'è mai nessuno che gli eletti sono tutti nominati quindi rispondono eventualmente a chi li ha nominati e consentitemi è una battuta che ho visto fare da crozza ma che mi passa particolarmente efficace per fare la seconda guerra mondiale ci hanno messo meno tempo che per fare la riforma elettorale che qui sono anni che si sta discutendo e in realtà non la fanno vuol dire che non c'è un interesse vero a produrre un elemento di cambiamento su una questione di questa natura che ridia la possibilità di un elemento di partecipazione e proprio perché nel momento che la partecipazione è negata a partire dalla società ma dai luoghi di lavoro noi siamo di fronte a questa cosa e io mi permetto di dire mi permetto di fare questo ragionamento proprio per quello che abbiamo vissuto in Fiat e nel Paese che se tre anni fa quando è partita la vicenda di Pomigliano tutti ci spiegavano che era un caso eccezionale non ripetibile e che quindi noi non avevamo capito nulla forse oggi a distanza di tre anni il fatto che non la FIOM o i delegati della FIOM ma la Corte Costituzionale di questo Paese abbia detto che quel progetto lì è un progetto incostituzionale sta a significare che c'è un processo in atto che tenta di usare la crisi che c'è per cambiare radicalmente la situazione precedente e vadate che se faccia questo progetto è evidente che nulla sarà come prima e allora il problema della conservazione rigiriamola noi siamo di fronte in realtà a due idee noi una vogliamo rappresentare c'è chi pensa che per uscire da questa situazione bisogna cambiare la Costituzione mettere in discussione in realtà i processi democratici e dentro a questo sviluppare una certa idea autoritaria nei luoghi di lavoro come nella società c'è chi come noi prova a dire umilmente e modestamente che il processo di cambiamento di cui questo Paese ha bisogno deve invece passare attraverso la realizzazione in tutti i suoi contenuti della nostra Costituzione a partire dalla partecipazione democratica delle persone ad ogni livello nei luoghi di lavoro nei comuni nelle province nella politica certo che questo è un elemento di processo e deve avere dei contenuti e noi nell'indicare i punti della Costituzione pensiamo che una serie di temi e di articoli che sono stati citati debbono avere una sua centralità e una sua forza sicuramente c'è un problema che riguarda oggi quando parliamo dell'Europa la necessità di andare in Europa con la nostra Costituzione e di pensare alla costruzione di un processo europeo che abbia al centro i valori della nostra Costituzione e dentro questa questione certo che oggi la questione della pace e del ripudio della guerra assume un significato importante non solo per dire di no a quella guerra ma come qui veniva anche detto perché se tu vuoi affermare fino in fondo i principi è una cultura diversa che devi costruire nelle relazioni e nei rapporti non so se è azzardato come paragone quello che sto facendo ma mi viene in mente di farlo badate io lo percepisco anche nei luoghi di lavoro è una fase in cui anche nei rapporti tra le persone c'è un incattivimento perché sei di fronte alla sopravvivenza e sei di fronte oggi a un rischio di una competizione tra persone il mio lavorare è legato al fatto se tu perdi il posto perché qui uno lo debba un licenziario a te o a me e da un certo punto di vista se ci pensate gli stessi episodi di violenza in questo paese che stanno riguardando le donne e non solo sei di fronte anche da questo punto di vista al fatto non solo diciamocela come va detta non solo che sono vent'anni che c'è Berlusconi ma che sul piano culturale dei valori in questi vent'anni è prevalso un altro elemento quando anche nei rapporti personali prevale la concezione proprietaria perché o tu hai la proprietà o non sei nessuno siamo di fronte a uno svilimento dei valori così come quando si cancella un punto di fondo che la ricchezza di un paese la produce chi lavora e quando tu invece cancelli questo elemento tu stai cambiando le regole fondamentali non a caso hanno detto che la Repubblica è una che la nostra Repubblica democratica è fondata sul lavoro non è un caso non è stata una discussione a caso partiva da un punto non diceva dei lavoratori diceva del lavoro proprio perché attraverso il lavoro che produci la ricchezza di un paese e che quindi ti pone il problema di una redistribuzione e dentro questo ragionamento le cose che qui sono state dette sul lavoro sulla legalità sui beni comuni sull'istruzione sull'estensione di una democrazia nei luoghi di lavoro ma in senso generale e quindi diventa discriminante il punto della partecipazione della democrazia allora io dico un processo di questa natura e lo dico a partire anche per quello che mi riguarda personalmente sia per quello che riguarda l'organizzazione che rappresenta e che nei prossimi giorni discuterà e affronterà il problema anche di come stare qui dentro e questo quando dico la responsabilità e responsabilità di ognuno di noi che c'è qui e di tutti quelli che noi vogliamo coinvolgere se vogliamo davvero avviare con oggi un processo che non ripeta errori del passato allora qui non c'è qualcuno che deve venire a insegnare a qualcun altro che cosa si deve fare qui ci vuole la responsabilità di avviare un processo che ha un punto di fondo fermo che appunto è l'applicazione della Costituzione a me ste domanda che non so se l'han fatta anche a Stefano oggi ma che tutte le volte è ma allora voi volete fare un partito fatemela dire in reggiano e dobali no? perché perché la dico così perché io mi permetto di dire che forse non solo ce ne sono già anche troppi e non è detto che funzioni non usiamo questo termine ma il problema è quello di avviare un processo che sia in grado di ridare uno spazio alla politica ciò che oggi non c'è è la politica che non c'è più non a caso i poteri forti oggi decidono anche sulla politica e riassegnare questo elemento e questo lo puoi fare solo attraverso un processo di cambiamento e lo dico perché anche questa domanda ci è stata fatta ma ne abbiamo ragionato e vorrei affermarlo nel momento che proclamiamo la manifestazione del 12 lo diciamo prima in modo che così sia chiaro perché non sappiamo nei prossimi giorni che cosa succederà la manifestazione del 12 ci sarà in ogni caso qualunque cosa succeda perché non siamo noi vincolati a questo o a quel processo politico e per noi l'affermazione della Costituzione è il punto di cambiamento anche del quadro politico dentro il quale vogliamo andare e lo dico perché se vogliamo davvero avviare un processo nuovo bisogna proprio aprire quando si dice la fase dell'ascolto però per ascoltarsi bisogna avere anche delle cose da dire quindi è molto importante utilizzare al massimo la nostra intelligenza per confrontarsi per discutere perché cos'è che è stato cancellato guardate che nel nome dell'interesse generale poi sarà perché fin da quando lavoravo in fabbrica tutte le volte che uno mi parlava dell'interesse generale io ci avevo da rimetterci e quindi avevo una certa resistenza io penso che oggi il problema è proprio questo e cioè se ripartire anche tra virgolette da parzialità di rappresentanza ma vuol dire che parti dalle soggettività vere delle persone dalle condizioni vere il punto è se l'interesse generale torna ad essere l'interesse della singola persona questo è il punto se si discute del lavoro e dei diritti l'interesse generale qual è? quello di cancellare l'articolo 18? qual è l'interesse generale? o è quello di rimettere al centro un lavoro di qualità e quindi di costruire le condizioni di un processo di cambiamento delle politiche che vadano in questa direzione e l'interesse della singola persona viene sapete perché? perché io lo dico per noi noi nei prossimi mesi vedo nel settore metallo-meccanico tanti raccontano che c'è la ripresa io non la vedo anzi mi fa ridere perché dice abbiamo in questi anni abbiamo perso il 29% però l'ultimo trimestre c'è stato un miglioramento dello 0,1% vuol dire che abbiamo perso il 28,9% o no? cioè non è che uno mi dice che ho migliorato la situazione e badate perché dico questo? perché nei prossimi mesi io vedo il rischio non solo in Fiat non solo in Fiat anche in altri grandi gruppi che si corre al rischio di chiudere fabbriche e di avere licenziamenti quando tu arrivi al fatto che l'estate viene utilizzata da piccoli e medi imprenditori per chiudere le fabbriche e andarsene non è che semplicemente sono impazziti quelli ce ne sono tanti altri che eventualmente pensano di farlo anche in un passaggio successivo a maggior ragione di fronte alla crisi che c'è allora quando si diceva che la nostra discussione non deve avvenire in senso generale e qui lo dico certo ci deve essere un collegamento noi la questione di applicare la Costituzione non la lanciamo in senso generale vogliamo farla qui e adesso non è che dobbiamo aspettare un tempo successivo ed è questo il processo di cambiamento e mi permetto di dire che il lavoratore che perde il posto il precario che non è in grado noi dobbiamo anche arrivare io non escludo nulla di fronte a certe situazioni anche iniziative estreme non sto dicendo che voglio andare sui tetti ma sto dicendo che siccome ogni posto di lavoro perso e perso per sempre ogni fabbrica chiusa e chiusa per sempre forse deve diventare un interesse generale non del sindacato dei lavoratori quello di impedire i licenziamenti di impiaddire la chiusura delle fabbriche dovrebbe essere compito del governo non del sindacato dei lavoratori fare delle politiche per impedire questa cosa e nei prossimi giorni può anche darsi che ci sia bisogno di questo che ci troviamo di fronte a scelte di questa natura e allora per evitare che come è successo alla Fiat il problema di quello che succedeva a Pomigliano era dei 5.000 lavoratori di Pomigliano o quello che succedeva a Mirafiori era dei 5.000 lavoratori ma è un problema generale dico prima che tra le battaglie da mettere in campo per applicare la Costituzione c'è anche quella di difendere il lavoro fino se necessario arrivare all'occupazione degli stabilimenti delle fabbriche e di mettere in campo i processi che impediscono questo tipo di elementi e questo non è parlare d'altro non è parlare d'altro e lo dico consapevole consapevole qui ci sta il punto consapevoli che oggi uno da solo per simpatico forte che sia non va da nessuna parte questa è l'altra consapevolezza che dobbiamo avere da qui parlo di senso di responsabilità il che non vuol dire perché anche qui ci racconteremo delle balle che tutti esattamente pensiamo tutte le stesse cose da tutti i punti di vista se miriamo quella roba lì non arriveremo mai a farlo oggi il punto è capire se il principio che abbiamo il processo che vogliamo aprire va in una direzione di questa natura e insisto quello che succederà e quello che questo determinerà lo vedremo in corso d'opera io sarà perché sono abituato a ragionare gradualmente però penso un punto su questo sono d'accordo con la cosa che diceva anche Paolo Flores se noi oggi diciamo che facciamo questa assemblea e siamo contenti perché siamo in tanti perché abbiamo avuto una quantità di adesioni altissima perché e mettiamo in campo delle azioni certo dovremo anche e lo diciamo fin dall'inizio per noi la manifestazione non è l'atto conclusivo del percorso che abbiamo avviato ma è in dubbio che la dimensione che quella manifestazione mi permetto di dire non solo quanti saremo e quanti ci conteranno ma cosa abbiamo costruito da qui alla preparazione della manifestazione nei territori in termini di iniziativa che ci permetterà di dare un elemento avanzato e allora e farlo diventare un fatto perché fatemela dire così se anche il presidente del consiglio con tutti gli impegni che ha trova il modo di dire qualcosa sull'assemblea vuol dire che qualcosina forse abbiamo la possibilità di incidere no? che c'è un'attenzione vuol forse dire e lo dico non per testimoniare perché permettetemi di testimoniare l'abbiamo già fatto tante volte no? cioè io penso che avere l'ambizione di provare a cambiare le cose è una cosa che non dobbiamo avere paura di dirla perché altrimenti sono gli altri che cambiano per noi e lamentarci l'abbiamo già fatto abbastanza poi può anche essere che non ci riesci ma di sicuro tu devi avere questa ambizione allora e qui chiudo siccome qui appunto siamo partiti in questo modo firmandoci e mettendoci la faccia e come diceva Sandra l'abbiamo fatto proprio non che voglia parire autoritario ma voglio chiarirlo ma proprio nel momento che abbiamo proposto un'assemblea aperta perché sappiamo cosa vuol dire ed è giustamente ognuno partecipa con la sua soggettività con la sua storia tenere assieme tante storie diverse e farle tentare di diventare un momento comune che sia in grado non di cancellare le storie precedenti ma di costruire delle cose nuove da qui in avanti partendo da dei punti condivisi alcuni condivisi è evidente che questa responsabilità ce l'assumiamo l'abbiamo proposta penso siamo contenti dell'esito di questa giornata della possibilità di aprire ma questo credo sarà anche il criterio con cui a proposito di gestione che garantisca la chiarezza degli obiettivi perché nessuno ci può tirare la giacca né da una parte né dall'altra per essere molto chiari in termini di processo e per farlo questo elemento è un elemento che insieme dobbiamo affrontarlo questo vuol dire naturalmente sia sulla manifestazione sia su questa cosa e abbiamo bisogno di lavorare assieme non c'è giubbio già il fatto che lanciamo la sottoscrizione per pagarci questa cosa penso che dovremo anche discutere come ci autofinanziamo e ci organizziamo anche le manifestazioni del 12 e le iniziative che mettiamo in campo proprio perché non semplicemente perché qualcuno non vuole mettere in campo anche la sua organizzazione come diceva l'Arci che discuterà lo farà la FIOM la prossima settimana e penso che ci saranno però il punto proprio perché non sia semplicemente una somma di organizzazioni nasce anche dal fatto che le organizzazioni stanno anche assieme tante soggettività tante persone e questo deve diventare anche un percorso di iniziativa in grado di affrontare questo tema per questa ragione noi non abbiamo ancora visto ma mi pare che le adesioni siano tantissime l'impegno che possiamo prenderci perché si tratta anche di passare a una fase anche organizzativa di gestione di questa cosa è chiaro che finita per l'assemblea ragioneremo valuteremo un attimo anche le forme più veloci perché già dalla prossima settimana confermando la manifestazione il giudice bisogna di vedersi di darci anche un minimo di struttura organizzativa che proprio voglia avere questa caratteristica e cioè che non esclude la responsabilità di chi l'ha proposto ma che si propone di allargare allo stesso tempo avendo questo elemento preciso e cioè che la priorità a cui noi ci rivolgiamo sono appunto i soggetti i movimenti le persone che in questi anni si sono mosse e ci rivolgiamo a tutto il quadro politico poi sarà compito delle forze politiche del quadro politico decidere se partecipano se aderiscono ma rispetto al sistema d'organizzazione non perché ce l'abbiamo con qualcuno ma per chiarire questo carattere questo significato abbiamo intenzione che sul piano organizzativo della manifestazione questo sia un elemento esplicito che da l'idea della costruzione innanzitutto di un movimento civico e della costruzione fatemela dire così di uno spazio politico il cui obiettivo non è fare un partito ma è quello di applicare la costituzione in questo paese e di mettere tutti di fronte alla necessità di dare una risposta su questo tema e la nostra lotta si deve muovere in quella direzione lì queste sono le cose che io ritenevo utile dire alla base di questa discussione vi ringrazio davvero tutti per la pazienza che avete avuto per essere stati qui oggi e credo che se tutti assieme con questo senso di responsabilità e di limite con l'impegno che ognuno di noi deve mettere nel posto in cui è nelle cose che deve fare penso che possiamo davvero iniziare un cammino importante e decisivo in questa fase grazie grazie grazie